sta per tramontare il sole su questo duemila e ventitré è stato un anno davvero da incorniciare per il nostro calcio tenuto per mano dal gruppo editoriale distante mese dopo mese Antena Sud si conferma la casa del calcio pugliese anche questa sera è un'occasione per augurare a tutte le società pugliesi qui presenti ma anche quelle che stanno assistendo a questa trasmissione da casa un buon anno e tanti buoni auspici allora buonasera a tutti voi da Claudia Carbonara ci sono due parterre questa sera d'eccezione e allora cominciamo da questo parterre io saluto subito il padrone di casa dato che noi siamo la casa del calcio pugliese Domenico Distante il nostro editore buonasera grazie Claudia grazie grazie e allora vado così per successione Vito Tisci presidente della Lega Nazionale di Lettanti Puglia presidente buonasera grazie buonasera a voi e poi c'è Dario Loporchio presidente Asso Calciatori Puglia buonasera Dario buonasera grazie per l'invito e abbiamo l'onore di avere qui stasera con noi l'avvocato Paolo Bedin direttore generale della Lega Pro grazie avvocato per essere venuto grazie mille grazie anche Luigi Barbiero vicepresidente direttivo della Lega Nazionale di Lettanti buonasera Luigi buonasera a voi e buonasera anche al nostro Giacinto Franceschine vice presidente dell'AIA buonasera buonasera e allora siamo qui riuniti poi ci saranno tantissimi ospiti dall'altra parte ma non vi voglio anticipare nulla perché ci sono dei saluti doverosi da fare intanto la nostra Cristina Cavallo che sarebbe dovuta essere qui accanto a me non c'è non sta bene purtroppo per questi malanni stagionali ma è come se lo fosse chiamo subito chi ha organizzato questo evento il padrone di casa il nostro coordinatore Salvatore Petrarolo buonasera Salvatore elegante buonasera buonasera ovviamente a tutti gli ospiti che sono qui in studio buonasera agli amici che ci seguono da casa io non devo rubare molto tempo perché sono i protagonisti sono in studio sono qui in platea ovviamente grazie a Claudia grazie a tutti i colleghi della redazione sportiva che hanno lavorato a questo appuntamento consentitemi soltanto di ringraziare tutte le società tutte dalla A alla eccellenza che hanno accettato l'invito che hanno preferito non accettarlo perché l'occasione è sempre quella per tirare un bilancio del 2023 e farci un prosperoso augurio perché il 2024 possa essere ancora più proficuo lascio a voi ovviamente la possibilità di ragionare di calcio grazie ancora a tutti coloro che sono presenti Claudia in bocca al lupo per questa serata mi vado a sedere nel pubblico mi vado a sedere nel pubblico ci sono tante cose belle mi vado a sedere nel pubblico buona serata a voi e allora grazie grazie Salvatore Petrarolo io intanto devo annunciare che ci sono delle novità che riguardano l'altra parte dello studio ma non posso ancora andarci bisogna ancora di un paio di minuti quindi chiamo in causa il nostro editore meno distante editore passano gli anni però ci sono sempre i visi quelli belli quelli dei nostri amici quelli di coloro i quali continuano a investire nel calcio e lo fanno in maniera sempre più professionale e sì Claudia ma non sei ancora un ringraziamento comunque ringrazio a tutti gli ospiti avvocato Bedini grazie di essere qui presente a noi grazie Luigi grazie presidente grazie Vito che ormai sono diciamo devo dire molti molti anni che ci conosciamo avete inventato il calcio pugliese ma diciamo ci conosciamo dal 1984 quando io ero presidente della squadra di calcio del mio Francavilla quindi ci conosciamo ormai da tanti anni sono passati 39 anni 40 anni fra poco quindi grazie ancora grazie a tutte le società qui presenti questa sera e grazie alle rispettive leghe per tutto il supporto e il sopporto insomma che ci danno cosa devo dire l'anno scorso ti mancavi si mancava la stella come dicevamo mancava la stella perché non perché mancavi perché non c'è mancavi perché è stato grazie vi dato alla luce una bella bimba quindi diciamo mancavi assente giustificata cosa dire tu dice ogni anno si vediamo ogni anno io vedo facce ripeto da da 40 anni qui vedo possiamo svelare già senza averle fatte vedere prima un franco d'amico che abbiamo fatto le battaglie in campo mai fuori dal campo quindi siamo stati sempre leali perché è giusto che le partite si vincono sempre nel rettangolo di gioco ma vedo altri colleghi poi magari stai spolerando dimenticando no poi magari dimentico qualcuno sa perché la vecchiaia fa questi scherzi quindi cosa dire noi da quando io ho fatto questo sacrificio che chiamiamo sacrificio insomma di assumere e di avere anche delle emittenti sotto il nostro gruppo uomo di calcio ho sempre creduto nello sport abbiamo sempre fatto ogni anno cerchiamo di farlo meglio anche noi sbagliamo giustamente perché bisogna sempre fare meglio bisogna sempre progredire il ringraziamento va ai miei giornalisti al direttore ai miei giornalisti agli operatori ai tecnici segretari di redazione tutti quanti perché senza voi sicuramente noi non potremmo fare nulla ringrazio le società che anche tutte le domeniche diciamo tra virgolette diamo fastidio rompiamo nei campi per cercare di fare il nostro lavoro per cercare di fare il nostro lavoro per farlo sempre nel migliore dei modi perché chi sta a casa in primis se noi ci preoccupiamo di dare una visibilità e di dare un programma decisivamente forte di dare con i contenuti forti con i contenuti giusti e stare a casa per vedere esattamente il calcio quello che ci piace a noi noi non facciamo solo calcio comunque facciamo anche palacarezzo facciamo anche sport minori diciamo che facciamo sport a 360 gradi e è giusto farlo i dati ci danno anche ragione noi chiediamo sempre di più alla rispettiva leghe poi ci stanno tutti presenti questa sera insomma di fare sempre di più di che abbiamo anche ottenuto di essere presente nel rettangolo di gioco per farsi insomma di fare le riprese molto 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 meglio di quelle che magari vengono fatti su dalla tribuna di fare le interviste pre partite del rettangolo di gioco tra primo e secondo tempo a fine gara tutto questo grazie alla lega anche la serie c e la serie di insomma la eccellenza tutti ci avete dato questa possibilità di farlo noi chiediamo questo ripeto non perché vogliamo dare fastidio alle società qui presenti o alle leghe cerchiamo di dare uno spettacolo diverso ripeto per chi ci vede a casa e noi nel nostro piccolo diciamo che facciamo tanti sacrifici e quindi cerchiamo di dare un prodotto quanto meglio sia ecco perché quando arriviamo nelle case delle persone nelle case dei telespettatori dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi possiamo fare meglio sì dicono me possiamo fare meglio dobbiamo fare meglio e chiedo qui l'aiuto di tutti quanti cominciando dalle società le rispettive leghe di tenere considerazione perché ripeto noi non vogliamo dare fastidio a nessuno però vogliamo dare al pubblico e ai telespettatori che ci seguono da casa sempre una cosa migliore di quello che abbiamo dato la giornata precedente quindi ringraziamento a tutti senza distinzione di nessuno perché grazie ancora a tutti perché ripeto io mi piace il calcio caro avvocato mi piace il calcio mi piace lo sport e quindi abbiamo sempre investito nel mondo del calcio Vito lo sa e cercheremo di farlo ancora cercheremo di farlo perché è giusto che sia così e noi siamo contenti anche perché siamo un po tutti i protagonisti di questo calcio che piace così tanto agli italiani e piacciono soprattutto alle italiane i miei colleghi che sono dall'altra parte dello studio e quando mi ricapita più di condurre una trasmissione con Flavio Insalata e Fabrizio Caglianiello buonasera ragazzi buonasera Claudia buonasera Claudia bellissima comunque grazie anche a voi opinione comune buonasera Flavio buonasera Fabrizio abbiamo un grandissimo parterre stiamo anche avviando un concorso stasera sul calzino più fashion vi diciamo subito che dopo faremo 3 4 nomination ce le abbiamo già ce le abbiamo pronte però insomma direttore sportivo Montervino lo vedo informissimo a questo punto di vista anche mister Capuano quindi magari dopo faremo Vittorio Orlando anche sì 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 quindi stiamo 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 messi bene da questo punto di vista allora Flavio tantissimi ospiti come diceva giustamente prima Claudia abbiamo il gota del calcio pugliese andiamo a presentare inizi tu noi facciamo gli allenatori oggi perché abbiamo le due panchine abbiamo tanti direttori abbiamo presidenti abbiamo tanti amici abbiamo il direttore sportivo del Cerignola Elio di Toro il direttore sportivo del Casarano Francesco Montervino il presidente del Fasano d'Amico abbiamo il segretario del Martino Emanuele Santoruvo abbiamo il vice presidente del Monopoli Paolo Tavano abbiamo il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricalo abbiamo il direttore sportivo dell'Altamura Massimiliano Martelli ma anche tanti amici di Antena Sud abbiamo la signora Bedin che abbiamo avuto l'ospite abbiamo avuto l'onore di ospitare qui in Puglia con il direttore generale della Lega Pro Salvatore Petrarolo ci ha raggiunto da questa parte abbiamo Marco Milano abbiamo Leo Custodero a cui come diceva il nostro editore Domenico Distante ogni settimana andiamo a chiedere qualcosa per quanto concerne le partite del Fasano e poi questo parterre d'erroa lo faccio presentare e allora da quest'altra parte benvenuto a Beppe Camicia direttore generale del Barletta benvenuti rappresentanze del Brindisi al presidente Daniele Arigliano a Lorenzo Arigliano e a Todoro Arigliano soci del club Bianco Azzurro e abbiamo anche rappresentanti dei settori giovanili perché noi puntiamo tanto e anche crediamo nei settori giovanili benvenuti a Leonardo Di Punzio responsabile tecnico del settore giovanile della Virtus Francavilla che è uno dei settori giovanili sicuramente più virtuosi del nostro calcio Vittorio Orlando responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Francavilla credo che abbia bisogno di poche presentazioni il tecnico del Taranto Ezio Capuano buonasera mister accanto a lui Vittorio Galigani consulente del Taranto Calcio e il capitano del Taranto Gianmarco Vannucchi capitano di una squadra che sta facendo benissimo in Serie C e ancora vedo accanto al direttore al capitano Vannucchi anche Franco Massari dirigente del Bitonto Calcio benvenuto anche al presidente di Miccoli della Barletta Calcio e poi ci sono i nostri colleghi Domenico Brandoniso la squadra parte della squadra di Antenna Sud Davide Cucinelli Valeria benvenuta grazie anche a lei per essere qui con noi saluto anche il nostro Roberto Donofrio e il nostro direttore Gianni Sebastio al quale vorrei lasciare la parola per introdurre questa parte del nostro studio direttore tutto abbraccio ovviamente non abbiamo preparato niente quindi mi coglie impreparato no scherzo bene grazie a tutti innanzitutto perché è bello vedere tutta questa gente tutte queste società pugliesi noi che siamo la casa eh del dello sport in genere del calcio questo appuntamento di fine anno ormai è diventata una eh tradizione eh mi piace moltissimo anche questa mh questo palleggiarsi no il la linea eh con i due studi e io direi di cominciare ad ascoltare i protagonisti no perché qui abbiamo mister Capuano al quale io chiederei subito un parere su questa annata su questo 2023 Intanto buonasera a tutti ringrazio Nino di Sante per averci onorato dell'invito e noi siamo venuti con grande piacere poi c'è tanta gente importante nel mondo del calcio che io conosco da tanti anni e quindi che ho rivisto con tanto piacere ma io penso che il 2023 almeno per noi parlo del Taranto che è stato un anno molto molto importante dove abbiamo avuto grandissime soddisfazioni eh penso che per tante squadre pugliesi che noi che io personalmente seguo stanno facendo benissimo ci sono tante realtà che stanno facendo bene sia nei professionisti ma anche nel calcio dilettantistico che stanno primeggiando e quindi stanno portando avanti il nome della Puglia in maniera importantissima quindi cosa posso dire auguro a tutti un gran 2024 foriero di soddisfazioni non solo nel calcio ma soprattutto nella vita Devo dire che mister Capuano attualmente forse è l'uomo di calcio più popolare d'Italia perché ormai frequenta tutti gli studi tutti i salotti e viene dal Corriere dello Sport da Ivan Zazzaroni che ne ha fatto un'intervista insomma mister questa popolarità forse non ti era mai accaduta no? Ma io non seguo i social che voi ci possiate credere o meno io non so che è Facebook che è Instagram che è Telegram ma a me io sono ancora ancorato alle cabine telefoniche dei gettoni quindi ho avuto la fortuna di vivere in maniera diversa quelli che erano gli anni diversi oppure ho avuto la fortuna non la sfortuna di nascere prima no a parte ogni cosa io penso di essere un uomo schietto sincero che può piacere non può piacere fuori dagli schemi dico sempre quello che penso perché penso che la libertà di pensiero debba essere il sentimento più alto che dovrebbe albergare nell'essere umano che purtroppo nel calcio è difficile io sì sicuramente mi può far piacere ma non me ne accorgo nemmeno io esprimo sempre quello che è il mio pensiero con grande sincerità cerco di lavorare in funzione di chi e lo ripeto fino all'inverosimile non come frase di circostanza chi vive il risultato in base tutta la settimana in positivo e negativo per quello che è la propria squadra penso che lo facciamo con grande professionalità con grande serietà e soprattutto con grande senso di appartenenza l'ho detto a più riprese il mio più grande successo è quello di aver riportato in pochi mesi da 400 spettatori a 12.800 paganti a Taranto quindi questo penso che sia il successo più notevole a prescindere poi i discreti risultati che stiamo ottenendo sul campo poi c'è la continuità tecnica no perché Capuano un triennale col Taranto e veniva già da un altro campionato io credo che il fatto di esonerare l'allenatore sia un corner un calcio d'angolo troppo frequente e invece bisogna dare continuità tecnica bisogna far lavorare gli allenatori bisogna far lavorare i direttori sportivi bisogna dare il tempo di programmare e questo è fondamentale Capuano c'è un triennale Fabrizio Claudia allora intanto vi informiamo siccome vediamo che i direttori soprattutto stanno con i cellulari in mano perché periodo di calcio mercato vuoi svegliare il cellulare di Titoro no abbiamo posizionato delle telecamere nella parte alta quindi stiamo praticamente flashando stiamo registrando stiamo registrando tutto domani facciamo una trasmissione a quindi alla fine grandi notizie su antennasud.com di calcio mercato sapremo tutto a te grazie ragazzi riprendo la pala perché è il momento di pensare anche agli ospiti che sono qui accanto a me inizio proprio da lei direttore e allora siamo giunti in una fase possiamo dire anche cruciale della vostra nuova esperienza sono trascorsi dei mesi una delle tante buone notizie che possiamo dare è che la serie C la Lega Pro non sta generando debiti nuovi debiti e questo è un gran punto a vostro favore. Sì è vero un dato oggettivo intanto buonasera a tutti e grazie ancora per l'invito e un saluto generalizzato ai club e ovviamente almeno distante padrone di casa è un dato oggettivo l'indebitamento e quindi il famoso equilibrio economico finanziario o la sostenibilità che sono uno degli dei cardini su cui si deve fondare lo sport in genere ma il calcio in particolare oggi testimonia che la serie C non ha incrementato questo numero lo fanno altri altri campionati superiori a noi questo penso sia un indice di serietà un indice anche di responsabilità da parte delle proprietà le proprietà hanno tante responsabilità quella di gestire una squadra nel presente ma quella anche di consegnare a una città e a una tifoseria un futuro perché il calcio esiste e esistito esisterà sempre quindi il fatto di aver creato anche delle norme e anche la governance che ci ha preceduto aveva già tessuto questa tela assieme alla federazione le licenze nazionali che è questo passaporto che le squadre devono ottenere per la missione del campionato e pochi lo sanno ma sono studiate all'estero da altre federazioni e talvolta sono complesse da comprendere talvolta per qualche giorno per qualche documento mancante si rischia la missione un campionato ma garantiscono la regolarità e la equa competizione tra le squadre e quindi un plauso a chi le ha inserite le federazioni le leghe un plauso ai club e alle proprietà che cercano di seguirle ed effettivamente un dato che oggi valza all'occhio tra i tanti numeri che il calcio ci consegna direttore restiamo a parlare di numeri perché ci sono degli incrementi anche delle presenze allo stadio anche degli abbonamenti per la serie c per vedere le sfide di serie c parliamo ovviamente di tutte e tre i gironi ma guardi io penso che la serie c abbia un potenziale inespresso ancora straordinario sono 60 città 60 territori 4 milioni e mezzo di cittadini delle città e quasi 15 milioni dei territori di riferimento 1250 partite in dieci mesi tre gironi 19 regioni rappresentate il più ampio il più vasto playoff al mondo non c'è nessun campionato al mondo di calcio che ha un playoff così lungo così anche complesso magari le società chiaramente in certa maniera si lamentano anche che ogni tre giorni si scende in campo però lato spettacolo lato spettatori passione seguito mediatico è un appendice straordinaria quindi la serie c rappresenta effettivamente uno spettacolo continuo è un richiamo di passione di una moltitudine di tifosi da nord a sud se poi si pensa che altro dato oggettivo è di fatto il vero serbatoio dei talenti italiani perché l'85 per cento dei nostri giocatori sono italiani io penso che la serie c nel prossimo futuro possa avere veramente ancora una crescita importante in termini di seguito poi non parliamo del sud perché i dati anche questo caso parlano chiaro sud ci consegna quasi il doppio degli spettatori degli altri due gironi accorpati e questo testimonia in seguito e l'importanza che il cancio riveste in questa regione e nelle altre che compongono il girone c e questo motivo d'orgoglio da parte nostra ci saranno altri esempi come la juventus generation ci saranno altre altri diversivi rispetto a questo modello ma lì non lo so dipende dalle dai club di serie a sicuramente c'è molto fermento le regole sono chiare la federazione le ha ben definite e quindi la possibilità di entrare chiaramente con proporzione rispetto poi a quelle che sono le squadre meritevoli di promozione e retrocessione nelle tre categorie c'è l'esempio della juventus penso sia oggi sotto gli occhi di tutti perché 26 giocatori della juventus under 23 hanno già fatto un debutto in serie a alcuni dei quali insomma sono sono diventura arrivati alle rispettive nazionali italiane e non l'atalanta sta facendo un ottimo debutto dopo un inizio magari in cui ha dovuto prendere un po' le misure e rappresenta un'altra strada io penso che le strade per l'affermazione del giovane talento italiano siano parallele io penso che la serie c la serie b abbiano un ruolo debbano avere un ruolo di costruzione di vivai e di valorizzazione dei giovani nelle proprie squadre e penso che le seconde squadre abbiano un altro ruolo parallelo è quello di permettere ai grandi club di far maturare all'interno magari di un di un quadro organizzativo e anche tecnico i propri giovani nel campionato di serici penso che questi due ruoli non siano in competizione siano alternativi ed entrambi vadano valorizzati direttore mantova da una parte cesena dall'altra juve stabia dalle nostre parti le chiedo di esprimersi un po' chi è la più forte secondo lei no qui non si può non si chiede mi chiede troppo devo dire che è un bel mix tra squadre partite con l'obiettivo di raggiungere il massimo risultato che è quello della promozione e squadre penso al mantova addirittura come dire ripescato in estate che invece si trovano ad essere prime in un campionato assolutamente come dire sorprendente ed oltre alle attese penso la torres penso al picerno penso la juve stabia campionato straordinario in termini di continuità mi pare di aver letto miglior difesa d'europa sì quindi sono numeri estremamente importanti cesena insomma proprietà importante pubblico importante tradizione importante è una diciamo due tre mesi di grandissimo trend positivo campionato appassionante in cui c'è ancora molto da dire penso che vedremo anche ancora delle sorprese direttore almeno il segreto per aggiudicarsi un girone secondo lei quale qual è se ce lo può dire non lo so il segreto è una proprietà che pianifica la capacità di di un allenatore di una squadra di costruire un progetto tecnico ma anche un progetto di gruppo io ho fatto anche esperienza di club e alla fine dopo tanti anni mi sento di dire che non sono solo i forti giocatori che fanno squadre importanti ma è il gruppo forte che trasforma una squadra da media a grande o da piccola grande e il ruolo dell'allenatore per cercare di coagulare un gruppo di persone all'interno di uno spogliatoio di un campo è fondamentale direttore la ringrazio verrà coinvolto ancora nel corso della serata però abbiamo dato il giusto lustro ad una serie la lega pro che appassiona davvero tantissimi tifosi e se vogliamo anche tantissime detti ai lavori noi dobbiamo fermarci per il primo break pubblicitario tra poco abbiamo appena concluso una bella chiacchierata con il direttore generale della lega pro paolo bedin tra l'altro direttore complimenti perché ha una moglie bellissima e tra l'altro un bellissimo nome possiamo fabrizio puoi chiedere come si chiama la signora bedin di nome signora buonasera benvenuta di nuovo grazie grazie a voi buonasera a voi claudia come lei ha visto è facile questa per me fabrizio perché lo immaginiamo facilissima e l'hanno servita lei segue il calcio sì sì molto sui campi a sì 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 io seguo molto da quando conosco mio marito quindi sono parecchi anni che condivido con lui questa passione insieme poi a mio figlio oramai gioca molto gioca a calcio sì 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 è un uomo fortunato direttore perché non a tutti non tutti noi abbiamo questa fortuna diciamo quindi non ci sono liti familiari per seguire le partite no 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 normalmente no va bene non le chiedo perché squadra tiene per evitare incidenti diplomatici ovviamente chiedono di che anno sia il figlio del direttore generale della della lega proprio che sia qualcuno sta chiedendo quindi signora di che anno è suo figlio 2005 perfetto che ruolo è un difensore centrale fa minutaggio in legato è under in serie d e va benissimo è under anche in quindi va benissimo ma c'è il minutaggio per il 2005 quindi ne possiamo parlare va bene ragazzi non vi posso dire chi ma qualcuno ha detto sembra un pio emedeo stasera flavio e fabrizio caianiello sei quello un po più in carne ma sicuramente ma lo prendiamo come un complimento quindi assolutamente sì anche simpatici allora prego chiamiamo elio di toro il direttore sportivo dell'audacea cerignola qui adesso lo accerchiamo si prego se oggi dovesse nascere qualche trattativa io e fabrizio caianiello siamo i padrini lo portiamo in braccio il giocatore direttore che 2023 è stato per il cerignola innanzitutto buonasera e grazie per l'invito anche un piacere incontrare tutti insieme perché tante volte con l'attività che facciamo diventa veramente difficile trovarsi per il cerignola un anno direi splendido perché ci ha visto per la prima volta protagonisti in lega pro e credo che il risultato soprattutto dopo la prima stagione sia stato molto molto importante ci ha messo di fronte a una realtà calcistica nuova e l'abbiamo affrontata bene siamo cresciuti anche attraverso le esperienze positive e negative che ci sono state ma l'ambiente poi alla fine ha vissuto tutto in maniera estremamente felice e siamo ripartiti con un progetto nuovo con un allenatore nuovo che ha portato una diversità un'identità di gioco diversa siamo passati attraverso degli alti e bassi ma nello stesso tempo abbiamo costruito un percorso che ci vede lì e siamo anche consapevoli che nel calcio i risultati si vedono sempre comunque alla fine ospichiamo che questo trend che abbiamo intrapreso ci porti sempre soddisfazioni migliori quanto vi hanno reso orgogliosi quei tifosi che nonostante la sconfitta nel turno di playoff nazionale a foggia vi hanno aspettato a cerignola vi hanno accolto come il simbolo di una città che ha trovato in voi proprio il loro simbolo di appartenenza è stato un atto di fede un atto di grandissima come dire appartenenza a quello che era il nostro percorso abbiamo creato un modo di essere la squadra ha dato sempre tutto e la gente si è vista inorgoglita e in questo senso perché comunque sia quando si vede rappresentata attraverso il sudore il sacrificio e la determinazione credo che questo per un tifoso sia la soddisfazione più grande abbiamo condiviso quel percorso fatto tanto tanto di soddisfazioni e che una partita a sé stante in dieci minuti di diciamo che nel calcio possono accadere no di follia ecco io l'ho voluta vedere come un momento anche di crescita perché probabilmente in quel momento la consapevolezza che il calcio non ti regala niente anzi che l'insidia è sempre dietro l'angolo è venuta fuori e ci ha dato anche un modo per ragionare per vivere meglio anche il futuro perché tanto nel calcio poi quello che ti tolgono ti danno e viceversa per cui bisogna accettare il verdetto del campo Vittoria sotto l'albero diciamo che il cenone della vigilia di natale quello di capodanno sarà più tranquillo ma come ho detto prima noi abbiamo attraversato un periodo di transizione perché abbiamo dovuto affrontare anche delle dinamiche dove abbiamo avuto tanti tanti infortuni questo non è un modo per giustificarsi però è anche una realtà dei fatti che ci ha messo anche nella condizione nelle difficoltà anche di affrontare delle situazioni ci siamo impegnati tutti e affinché adesso per ritornare al discorso che facevamo prima quando c'è unità di intenti e c'è una idea che parte dalla proprietà che ha imparato anche tanto in questi anni a vivere i risultati in un certo modo perché partiamo a presupposto che è una proprietà sicuramente importante ma che è maturata anche tanto da un punto di vista calcistico e insieme noi ragioniamo sulle cose vediamo quello che si può fare le cose che non vanno ci si confronta e ci si affronta a musodura anche quando ci sono delle difficoltà e ne siamo sempre venuti fuori e continueremo a fare questo perché poi alla fine il tempo è sempre galantuomo Abrizio te lo lascio sul calcio mercato perché credo che sia presto tanto non risponde lo sappiamo e no volevo chiedere invece siccome voi siete diventati veramente una società virtuosa io dico sempre che la squadra di calcio è il miglior strumento di promozione di un territorio e credo che da questo punto di vista città particolare penso a Francavilla oggi anche cerignola no ne stiano beneficiando tantissimo a livello nazionale contestualmente siete cresciuti come club come diceva prima il direttore che effetto le fa vedere uno dei vostri prodotti penso da chicco oggi giocare titolare in serie b ma hai toccato un punto che a me come dirigente fa tanto piacere ma credo che debba far piacere più alla mia società che cerignola ad hoc e ai tifosi alla tifoseria tutta perché io ho seguito un percorso partendo dalla di un anno di ridimensionamento e siamo cresciuti piano piano attraverso il gioco attraverso comunque un prodotto tecnico siamo riusciti a vincere attraverso il sostegno economico e tecnico siamo arrivati in lega pro e la cosa più bella forse è stata quella di trovarsi in un panorama calcistico nazionale dove cerignola era per la prima volta agli occhi di tutti e magari veniva ricordata per altre cose ma invece oggi devo dire che quando parlo nel mondo del calcio è vista con rispetto e credo che la soddisfazione più grossa sia questa poi per quello che riguarda l'aspetto tecnico non solo a chic c'è stata una partita qualche domenica fa lecco bari dove noi avevamo tre giocatori che hanno vestito la maglia del cerignola in campo titolari e credo che egoisticamente per me che faccio questo lavoro è una soddisfazione incredibile ma per cerignola che produce due elementi che sono d'orbal e asci che a sarà l'acqua in porta e in questo caso siano motivo di soddisfazione grazie direttore complimenti e in bocca al lupo al cerignola e complimenti al direttore elio di toro andiamo avanti dacci tu indicazioni potete andare avanti ancora un po' è perché mi state piacendo oggi siete molto professionali il presidente come oggi siete molto professionali sì oggi sono però non so perché specifica l'intermittenza perché poi la premiazione del concorso della calza allora a proposito di imprese prego presidente venga qui buonasera il presidente al brindisi daniele arigliano come va abbastanza bene presidente arigliano faccio un piccolo sunto come abbiamo fatto col direttore di toro ha avuto due meriti in particolare uno quello di aver salvato il brindisi praticamente da un certo fallimento prendendolo dall'eccellenza due stagioni fa e poi lo ha riportato in terza serie dopo 33 anni al termine di un campionato perché oggi noi facciamo un po' il sunto di quello che è stato l'anno solare non soltanto quello che stiamo vivendo in questa stagione quindi il brindisi è sicuramente una delle protagoniste di questo anno al termine di un campionato lo scorso anno che io ho detto più volte è sembrato un film più che un campionato di calcio sì fabrizio hai ragione indubbiamente l'anno scorso è stato un finale avvincente proprio come un film è stato un campionato nel quale tutti quanti dal primo all'ultimo ci abbiamo creduto e come è bene che sia quando qualcuno ci crede fermamente poi alla fine a volte riesce a raggiungere anche dei risultati che ad un certo punto potevano sembrare in un certo senso anche inaspettati per noi raggiungere lo spareggio che penso di vedere qui in queste immagini ho visto prima il gol finale di fellica fino a due mesi prima sembrava sembrava impossibile solo la grande determinazione di un gruppo importante ha potuto diciamo raggiungere questo importante obiettivo che come hai detto tu sembra davvero un film che poi è un po' un motto a non mollare perché lo scorso anno l'avvocato barbiero mi può confortare in questo ci sono stati due club in particolare che hanno svoltato praticamente all'ultima curva il sorrento che si stava giocando la promozione con la paganese nel giro negi e il brinzi che addirittura ha recuperato otto punti sulla cavese in un mese e mezzo sì abbiamo recuperato otto punti sulla cavese con uno scontro diretto in casa che è stato determinante insomma oltre che qualcosa di emozionante dal punto di vista proprio delle delle immagini della tifoseria la cornice di pubblico riagganciando c'è il discorso fatto prima io credo che la puglia sia in serie d che in lega pro abbia una fetta importante proprio dal punto di vista numerico no quest'anno abbiamo sei squadre su 20 che sono pugliesi e soltanto la campania e alla nostra pari e poi tutto il sud le altre regioni ne hanno una due quindi questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti quanti noi e faccio i complimenti a tutti quanti presenti perché sia in in serie d che in lega pro riusciamo a rappresentare una fetta importante del calcio di tutto quanto il sud flavio invito a non mollare e anche per per questa stagione perché i tifosi adesso vi chiedono di salvaguardarla quella categoria sì quest'anno abbiamo abbiamo cominciato bene poi qualcosa ha cominciato a non funzionare è una serie di sconfitte consecutive purtroppo ci hanno condannato ad una brutta posizione in classifica come sempre la la lega pro a questo punto del campionato fortunatamente un gruppo abbastanza compatto l'anno scorso già il catanzaro aveva cominciato già a prendere il largo invece quest'anno ci sono due grandi gruppi e fortunatamente il gruppo che ci riguarda che sarebbe purtroppo il gruppo di coda è abbastanza è abbastanza unito questo girone d'andata ci ha insegnato che basta fare due tre partite con risultati positivi magari centrando delle vittorie dei pareggi il cosiddetto filotto di risultati utili per svoltare per fare un balzo in avanti e il nostro dovere è quello di intervenire in in maniera seria perché il cambio di mister ce lo impone perché chiaramente quando intraprendi un cambio di guida tecnica poi devi anche assecondare qualcosa dal punto di vista delle scelte di mercato fra qualche giorno il mercato si aprirà e che quindi sarà buon lavoro sarà una telefonata al giorno di fabrizio caianiena sarà sicuramente buon lavoro per tutti quanti voi che aspettate questi periodi per appunto dare soddisfazione sia ai tifosi e anche al alla ai ai telespettatori in genere che sono appassionatissimi di calcio e anche questo deve essere motivo di orgoglio per noi quindi fra qualche giorno partirà finalmente il mercato e cercheremo di rimettere il treno sui binari grazie al presidente ariliano che fra pochi giorni ci bloccherà purtroppo per le chiamate n'entrata però noi chiameremo con con gli altri numeri a te claudia ma dai che mi vogliono bene prima di dello spareggio cavese brindisi che ho vissuto in maniera bellissima con davide cucinelli quella giornata registrammo su antenna sud il presidente distante me lo potrà confermare un record straordinario perché realizzamola diretta in esclusiva sia per cava che per brindisi io ricordo che poi da cava anche ricevemmo tanti feedback positivi in questo senso e fu un altro motivo di grande orgoglio per noi tra l'altro una bellezza guarda non ti dico però devo raccontare una cosa che nonostante quelle tensioni che vedete il presidente lo ricorderà al termine della partita avvocato barbino successo una cosa bellissima la dirigenza della cavese al completo nonostante quelle tensioni una partita così tirata no che andò quasi ai supplementari perché durò 130 minuti andò a complimentarsi con il presidente ariliano disse complimenti ha vinto la squadra più più forte ed è un bel esempio di fair play no il presidente mi disse testualmente in 15 giorni avete dimostrato di essere più forti noi perché loro vennero in casa nostra nella penultima di ritorno noi vincemmo una zero con un gol di sirri e lui venne proprio di persona a stringermi la mano fu insomma il riassunto di una bellissima partita perché poi fatta eccezione per quello che fu sugli spalti per qualche minuto di nervosismo dei dei tifosi della della cavese fu comunque anche dal punto di vista sportivo i giocatori fu un esempio di fair play davvero claudio a te avvocato barbiero poi parleremo insomma della serie di però volevo proprio commentare con lei questo episodio dovrebbe essere la normalità questa pure ne parliamo come se fosse una cosa eccezionale però è comunque molto bella e quindi va sottolineata ma sicuramente sì che il presidente ariliano è testimone di delle peripezie che abbiamo dovuto affrontare per l'organizzazione di questa gara personalmente ricordo di aver contattato oltre 18 società e 18 comuni per poter ospitare questa gara che ovviamente avrebbe meritato un impianto all'altezza delle tifoserie ma soprattutto delle squadre e quindi il fatto di che si sia potuta realizzare non troppo lontano perché il presidente ariliano mi è testimone noi abbiamo io personalmente avevo contattato anche la lo stadio di modena calcolate che le due squadre interessate erano la cavese e il brindisi andare a modena era una sconfitta per tutti per fortuna il presidente della vibonese l'amministrazione la questura di vibo valenze ci hanno consentito di fare questa partita che si è conclusa nel migliore dei modi tra due società importanti due società che nel proseguo di questo campionato stanno dimostrando una di meritare la lega pro l'altra prima in classifica di nuovo nel nel campionato di serie d ma soprattutto io che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere i presidenti non mi meraviglia quello che sia successo a fine partita ma è giusto sottolinearlo non perché sia successo perché proprio per questo deve essere un esempio per tutti grazie avvocato io sono un po in difficoltà adesso torniamo a parlare di serie c perché la chiamano ancora sorpresa del campionato secondo me sta diventando una bella realtà di questa serie c vale a dire il picerno che è praticamente l'inseguitrice della juve stabia insieme alla casertana non abbiamo qui in presenza nessun rappresentante però c'è da dire che il direttore generale grieco ci ha mandato un video messaggio che vogliamo proporvi allora direttore facciamo un bilancio veloce di questo gironi di andata del suo picero è un girone di andata importante potevamo avere qualche punticino in più però sono assolutamente contento di quanto fatto la squadra ha espresso un ottimo calcio a detta di tutti forse siamo la squadra che ha espresso il miglior calcio abbiamo ottenuto risultati importanti abbiamo numeri importanti dalla nostra parte qual è il miglior attacco una delle migliori difese abbiamo il capo canoniere del girone con noi quindi sono numeri che ci riempiono di grande soddisfazione però ci danno lo stimolo per migliorarsi ulteriormente cercare di alzare ancora di più l'asticella e guardare a nuovi obiettivi prospettiva mercato come si muoverà questo obiettivo non ho bisogno di intervenire sul mercato perché penso di avere una delle squadre migliori del girone l'abbiamo dimostrato nel appunto nel girone di andata i miei giocatori sono incedibili penso di avere ripeto una squadra altamente competitiva che ci può dare grandi soddisfazioni quindi non c'è bisogno di intervenire sul mercato non c'è bisogno di andare a come dire toccare nulla perché una squadra ed è un gruppo straordinario e sono convinto che questa squadra e questo gruppo ci può regalare delle soddisfazioni importanti analisi sul campionato queste prime 19 partite in conclusione di questa analisi chi vincerà questo quest'anno il campionato è un campionato equilibrato l'ho detto da quando siamo partiti in ritiro a differenza degli anni passati non c'è il catanzaro la regina o la ternana di turno che hanno ammazzato il campionato e ottenuto voglio dire la vittoria del campionato già al girone di andata questo è un campionato che si deciderà nelle ultime giornate se non nell'ultima giornata io penso che l'avellino ha qualcosa in più rispetto agli altre squadre però non dimentichiamo e non come dire trascuriamo quella che la casertana la stessa juve stabia che è lì e non è lì per caso ci sta anche il picerno quindi è un campionato che si deciderà nelle ultime giornate alla fine io penso che l'avellino ha qualcosa in più e forse sarà l'avellino a vincere questo campionato un messaggio per il gran gala del calcio di antena sud è una manifestazione alla quale ho partecipato l'anno scorso con grande piacere purtroppo quest'anno per impegni lavorativi e anche personali non ho la possibilità di partecipare faccio un saluto a tutti quanti ringrazio sulla vostra redazione per l'attenzione che presta nei confronti del picerno trasmettendo anche in esclusiva le gare del picerno e ovviamente sente siete sempre attenti alle come dire dinamiche del picerno e ringrazio veramente per il lavoro che quotidianamente svolgete e per la possibilità che date al picerno di farsi conoscere nell'ambito anche nazionale regionale e quindi grazie a tutti voi è un augurio particolare alla redazione alcuni li conosco personalmente perché sono amici di lunga data un augurio a tutti i telespettatori ea tutti i tifosi del picerno avvocato barbiero siccome il picerno è una creatura della serie di c'è stata per a diverso tempo si sarebbe aspettato questo esploat anche tra i professionisti credo che picerno sia un un esempio di programmazione sia un esempio di isola felice per quanto riguarda i calciatori la tranquillità la serenità di una società importante che ha programmato nel tempo e credo che poi i risultati vengano fuori ma come diceva prima il direttore bedin credo ormai che la consapevolezza di tutte le società che disputano il campionato di lega pro sia quella di puntare non tanto ai risultati nell'immediatezza ma a quello che è la progettazione futura perché ovviamente il risultato immediato se raggiunto porta alla soddisfazione al successo ma se non raggiunto può determinare problematiche per gli anni successivi e quello è stato il retaggio passato non per per amor di dio non non solo della serie c anche della serie d di campionati nazionali dove alla fine le promozioni sono ristrette rispetto al numero dei partecipanti ci saranno delle novità la prossima stagione delle novità che riguardano gli under presidente saranno obbligatori tre e non più quattro dico bene sì allora faccio innanzitutto consentimi di ringraziare mino distante il gruppo editoriale distante perché per quello che fa per il campionato di serie d per l'attenzione che rivolge al campionato di serie d alle squadre pugliesi in particolar modo perché in un panorama nazionale credo che al di là del fatto che oggi siamo ospiti in casa sua ma credo che sia doveroso da parte mia riconoscere questo questo sforzo questo sacrificio che il gruppo fa tutti gli anni per le squadre che partecipano al campionato di serie d perché permettono a tutti non solo di avere domenicalmente la possibilità di assistere alle alle gare di alcune società delle società diciamo anche più blasonate della puglia ma soprattutto perché quotidianamente aggiornano i tifosi e gli addetti ai lavori e gli appassionati di quelle che sono le le iniziative ma soprattutto a quelle che quello che è l'andamento delle squadre vengo al discorso degli under noi abbiamo preso ovviamente lo spunto da una situazione che ha messo in grande difficoltà il mondo dilettantistico e lo ha messo in particolare difficoltà anche le società del campionato di serie d e cioè quella dell'entrata in vigore dal primo luglio della legge della riforma del lavoro sportivo un impatto importante un impatto che per quanto riguarda le società di serie d diciamo che non non ha colto di sorpresa perché le società di serie d come tutti ben sanno ormai da oltre 15 anni avevano erano obbligate ad adottare l'accordo economico che però parlava di rimborsi e non di contratti quindi la questione è completamente diversa e quindi partendo da questa situazione che ovviamente ha stravolto gli equilibri le organizzazioni societarie e i budget delle società abbiamo verificato attraverso una comunicazione a tutti quanti i presidenti delle 160 all'epoca erano 167 poi è venuta a mancare la mezzia 166 società sulla eventuale idea di proposte di modifica riguardo innanzitutto l'utilizzo degli under e nell'ipotesi di utilizzo se c'era qualche proposta diversa riguardante le classi di età e quant'altro abbiamo ottenuto un volontà pressoché unanime riguardo innanzitutto sull'utilizzo degli under e poi diciamo abbiamo avuto la delega per le valutazioni dal punto di vista strettamente numerico e delle classi di età la valutazione che abbiamo fatto con il consiglio direttivo e con il presidente abete era quella di tenere in debito conto due situazioni di natura strettamente tecnica la prima il contratto che va a vincolare i calciatori cosiddetti under e la abolizione del vincolo che è entrata in vigore con la nuova legge e con le nuove norme federali a questo punto si è ritenuto anche nell'ottica di valutazione dei campionati primavera dei professionisti di utilizzare la stessa gradualità degli anni e cioè non fare uno scivolamento della doppia annualità faccio un esempio la logica avrebbe voluto per il prossimo anno due 2005 due ragazzi nati nel 2005 e uno nato nel 2006 abbiamo invece mantenuto il 2004 un 2005 un 2006 riducendo di un'unità per i motivi che prima dicevo perché siccome le campionati primavera dei campionati professionistici hanno ritenuto di mantenere in quota ancora l'anno 2005 quindi non abbiamo voluto appesantire le società con un'annualità dove ci sarebbe stata la concorrenza dei campionati nazionali e non la possibilità invece che i ragazzi fuori quota per le primavere potessero andare a giocare in serie d quindi questa dal punto di vista tecnico dal punto di vista invece strettamente operativo la proposta è stata una proposta biennale quindi dopo il campionato 2024 2025 faremo tireremo le somme su quello di quello che sarà stato l'andamento per la conferma dell'anno successivo sempre delle tre annualità oppure eventualmente procedere a verifiche e poi sentiremo anche l'opinione di dario loporchio sull'argomento sì come no come no cosa ne pensa il direttore monterrino del direttore monterrino spera di non starci in serie di l'anno prossimo secondo me però di questo cambio della regola sugli under e soprattutto della riforma che vi ha in un certo senso obbligato a modificare delle situazioni contrattuali prego prego direttore qui in mezzo tra l'incudine e il martello buonasera innanzitutto e grazie per l'invito no sicuramente in questo momento mi preoccuperei per quanto riguarda la riforma degli under in serie di sicuramente ridurre da 4 a 3 potrebbe far alzare quella che la qualità e soprattutto forse lasciare meno ragazzi over a casa perché quando più under ci sono più c'è la possibilità da parte di società di non prendere giocatori magari di una certa età e io adesso difendo un po quella che la mia ex categoria vecchia categoria quale del calciatore lasciare poi dei ragazzi a casa non è mai non è mai semplice forse riducendo il numero degli under si potrebbe alzare un po il livello perché in serie di arrivano quegli under che non sono proprio la prima scelta dei settori giovanili non c'è dubbio questo questo non c'è dubbio ma qua c'è il il fasano che è una di quelle società che non si è mai preoccupata del numero degli under da mettere in campo e lo hanno fatto con 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 grande con grande livello insomma in tutti gli anni però poi ecco ci sono realtà come la nostra che in qualche modo partecipano per cercare di vincere e quindi si devono preoccupare anche di mettere in campo quella che è una squadra che abbia una qualità alta per quello che poi è il girone h di serie d che conosciamo tutti probabilmente uno dei più costosi dei più difficili e che ti 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 permette di di non ti permette di sbagliare quasi nulla se vuoi cercare di di lottare per vincere allora al volo beppe camicia direttore general barletta favorevole passaggio da 4 a 3 under assolutamente sì assolutamente sì perché in qualche modo soprattutto le società dilettantistiche con la riforma sono un attimino penalizzate quindi un un incentivo a rendere la la situazione degli under meno meno problematica secondo me auspicabile era auspicabile auspicabile quindi mi trovo assolutamente favorevole grazie direttore dopo chiaramente parremo anche del barletta e si può accomodare poi dopo magari facciamo un secondo giro per parlare sì ragazzi perché io in collegamento il presidente della lega pro matteo marani che saluto buonasera presidente era buonasera ben trovati a tutti ciao ben trovati le chiedo già un po di pazienza perché abbiamo un break pubblicitario non vogliamo parlare un po con lei e quindi un po di pazienza pubblicità e poi parleremo con il presidente marani a tra poco abbiamo in collegamento il presidente della lega pro matteo marani presidente ci dispiace non averla qui noi abbiamo un suo carissimo collega se così possiamo chiamarlo il direttore il direttore bedin abbiamo già cominciato a parlare un po di serie c però vorrei partire da una sua frase la serie c aiuta i giovani a trovare spazio lo ha detto qualche giorno fa sì intanto ben ritrovati a tutti quanti credo che la serie c sia rimasto davvero l'ultimo grande laboratorio del calcio italiano nel senso che noi abbiamo al nostro interno il 90 per cento di calciatori italiani è un numero se vogliamo straordinario quindi è il più grande bacino da cui poter attingere per tutto il movimento io credo che questo sia un servizio che la lega pro che la serie c fa tutto il calcio italiano e che per questo dovrebbe essere anche probabilmente un pochino più aiutata e compresa nello sforzo che compie lo dico anche in relazione ai club al lavoro che fanno i club non visti molti collegati questi molti in studio prima di insomma di collegarmi con voi alcuni sono anche siamo amici cari e io credo che abbia fatto e stia facendo la serie c ripeto un lavoro al servizio di tutto il calcio italiano perché i giovani forse anche i pochi giovani che chiescono e che crescono in questo momento arrivano dalla dalla serie c sono tanti casi si è raccontato molto quest'anno di gatti ma penso di lorenzo penso tanti ragazzi che hanno conquistato la nazionale e sono partiti da questo da questo campionato che è un campionato di formazione è un campionato proprio di 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 costruzione per i giovani e credo che questo tipo di missione vada accompagnata e vada aiutata da ogni punto di vista cioè credo che anche i grandi club le serie superiori di questo non possono non tenere conto allora presidente c'è una bellissima iniziativa che vi riguarda le multe per le società saranno devolute al progetto giovani questo è davvero molto interessante da cosa parte questa idea a parte da un fatto che i club ovviamente diciamo mal sopportano li comprendo anche la multa la sanzione che spesso siamo vissuti in maniera diciamo un po come una sorta di piccolo esproprio rispetto ai propri mezzi e quindi si è pensato quest'anno come lega l'ha pensato il nostro consiglio quindi io ringrazio il consiglio per questo tra l'altro c'è diciamo un vostro rappresentante della regione che antonio magri che ovviamente parte come diciamo come come consigliere dato anche nel comitato esecutivo e il consiglio ha pensato di rimettere interamente ai club le multe rimetterle attraverso i propri giovani visto che questa è la missione che ci siamo dati che cerchiamo in ogni modo di accompagnare c'è tutto quello che noi stiamo cercando di mettere a disposizione di club parlo proprio come risorse riguardano sempre i giovani abbiamo accentuato in ogni modo purtroppo devo dire che da questo punto di vista non è una congiuntura favorevole perché non siamo stati tanto aiutati da un punto di vista normativo in questa fase mi riferisco ovviamente all'abolizione del vincolo che è difficile insomma anche da accettare per chi fa settore giovanile però detto questo abbiamo rimesso completamente ai club le multe proprio per dare un segnale cioè siamo la lega che non trattiene le multe ma le multe le usa per mettere in movimento il volano che è quello appunto dei giovani del calcio dei vivai dei settori giovanili io sono venuto spesso in questi mesi in puglia attraversato spesso la puglia e sono rimasto colpito anche da molti progetti penso per esempio qualche mese fa quando incontra il monopoli che mi raccontò di questo progetto relativo all'investimento proprio nelle strutture del settore giovanile so che tutti stanno cercando di farlo perché devo dire questo e non lo faccio per una cartazza benevolenza io credo che veramente in puglia si faccia calcio lo si faccia a tutti i livelli lo si faccia tra l'altro in tutte le serie e che ci sia un fortissimo senso come dire di identità di appartenenza proprio anche al calcio alle sue strutture alla sua alla sua realtà e questo è molto importante guarda se ti posso raccontare un piccolo aneddoto io come sai sono diventato presidente il 9 di febbraio scorso io il giorno in cui ho capito che diventavo presidente della lega pro è stato qualche giorno prima quando veni in puglia bari incontrando tutti i club pugliesi per me la puglia è stata molto importante senso che mi ha sostenuto tantissimo ovviamente non posso dimenticarlo insomma il grande credito che mi ha dato io quel giorno a bari ho capito che probabilmente questa sfida che avevo lanciato insomma sulla quale correvo per arrivare a fare il presidente l'avrei potuta vincere proprio perché avevo capito e colto nella passione del club pugliesi della gente di puglia la volontà di provare a cambiare e di fare qualcosa in favore di diciamo una nuova una nuova serie c e secondo me tutti insieme perché questo ci tengo a dirlo questo è un lavoro di gruppo voi avete diciamo un oggi lì presente il nostro direttore generale paolo bedin ci sono un consiglio molto unito ci sono tante figure all'interno della lega e stiamo lavorando tutti veramente in maniera molto coesa per cercare di come dire un po dare anche un'immagine diversa questa lega che spesso è stata bistrattata che era considerata quella degli ultimi quella sporca brutta e cattiva invece se come ci stiamo togliendo un bel po di soddisfazione intanto siamo ovviamente su sky abbiamo fatto l'accordo con fifa per la parte internazionale siamo la prima lega in assoluto in europa ad averlo fatto ci sono sponsor che ci sono avvicinati però colgo l'occasione visto che sono proprio collegato con voi per un ringraziamento che ci tengo a fare all'editore perché stante per per antenna sud perché diciamo storicamente storicamente è stato fatto un grande lavoro e viene fatto un grande lavoro nei confronti della serie c ed è giusto riconoscerlo secondo me oggi c'è in un momento in cui adesso gli interessi vedo tra l'altro inquadrato domenico che saluto dicevo in questo momento in cui i consensi aumentano e in cui come dire l'attenzione aumenta nei cresciti confronti della lega prossimo non è giusto rimarcare chi sulla serie c sulla lega prossimo ha sempre creduto ha sempre investito e ha sempre fatto in modo che questa lega fosse presente in diciamo televisivamente e con il pubblico quindi è un ringraziamento quanto mai significativo oggi grazie 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 presidente sono trascorsi dieci mesi da quel febbraio si può cominciare un po a tirare le somme e presto presidente ma io devo dire che intanto sono soddisfatto sinceramente nel senso che anche per me era un'avventura nuova io fino a 12 mesi fa esattamente in questi giorni sempre scorso ero un giornalista di sky lavoravo a sky e faceva un altro tipo di lavoro poi ho affrontato questa sfida mi sono entusiasmato mi sono entusiasmato anche dell'incontro proprio con con le persone del calcio con i presidenti con i direttori con i dirigenti con le persone che mi dicevano prova ci proviamo ci vediamo se riusciamo a cambiare un po e sono stati secondo me dieci mesi belli stati dieci mesi anche in qualche modo emozionanti perché tante sfide le abbiamo vinte ripeto sembrava che la c non potesse avere una visibilità di un certo tipo siamo andati su sulla rai per le finale siamo andati su rai 2 in regolar season si pensava che addirittura non si potesse fare questo invece è capitato è accaduto tante aziende di primo livello insomma nazionali sembrava che non si potessero associare alla c invece oggi ci stanno ci stanno con 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 orgoglio vedo soprattutto nelle persone che fanno parte di questo mondo che un mondo meraviglioso quello della serie c perché un mondo vero è un mondo autentico fatto di passioni vere vedo finalmente anche un po di orgoglio cioè il piacere di farne parte siamo in questo momento una lega che riscuote consensi probabilmente siamo delle leghe che ha aumentato più anzi sicuramente ha aumentato di più in questi mesi la propria riconoscibilità la visibilità la spinta saluto dato vedo tisci vitotisci amico carissimo e lo ringrazio perché spesso insomma con lui con vito si parla di puglia e sa quanto mi è nel cuore quindi dicevo c'è una spinta e che noi stiamo provando esercitare e mi sembra che questa spinta stia arrivando si stia accogliendo non ultimo ovviamente anzi soprattutto nei tifosi abbiamo stadi pieni tantissimi tifosi qualcuno diceva la maggior presenza televisiva poteva togliere pubblico invece in realtà il pubblico aumentato negli stadi c'è un grande seguito in questo momento per per la serie c il nostro obiettivo ovviamente continuare cerca da fare sempre meglio vogliamo dare sempre più spazio ai giovani però intanto siamo un campionato che si è conquistato una sua credibilità una sua torrevolezza e mi piace vedere appunto nelle persone che ne fanno parte a partire dai presidenti una fierezza che era giusta era necessario ricordo proprio dieci mesi fa quando cominciamo come come ricordavi tu nella data c'era un po di malumori c'erano un po di spaccature c'erano stati diciamo anche degli stati d'animo negativi ecco a me sembra che quegli stati d'animo negativi siamo riusciti a ribaltarli oggi c'è un altro approccio completamente a questa a questa serie c che poi entusiasmante perché sul campo ovviamente bellissima questa se posso la racconto io io ero stato eletto da due giorni avevo fatto una promessa a paolo tavano e siccome la scaramanzia la seguo sempre paolo mi aveva detto se vinci le elezioni vieni alla prima partita nostra questa era monopoli turisti c'erano proprio le telecamere tra l'altro di antenne a sud questa era la prima conferenza stampa che io facevo da presidente di lega pro presidente la interrompo un attimo perché la sta ascoltando e si è messo in piedi proprio paolo tavano lo inquadriamo eccolo qui con tanto orgoglio ciao matteo è sempre un piacere sentirti vederti e mi piace che esprimi sempre quella che la tua passione della della serie c della lega pro penso che tu l'abbia trasferita a molti club anche la maggior parte qui presente grazie io ti ringrazio molto paolo sono io che ringrazio voi e non è retorica parte a te in modo particolare perché ci ha mai creduto fin dalla prima ora in questa sfida che io che prendevo perché insomma ricordo proprio quella giornata vari come dicevo fu una giornata importante e determinante nel mio cammino per decidere poi di fare il presidente della della rega pro per vincere quelle elezioni è un mondo molto bello il grado tu paolo insieme ad altri ovviamente me l'avete anche raccontato fatto conoscere in qualche modo mi avete preso un pochino per mano e ricordo proprio con te paolo quel giorno insomma quando finì la partita le cose che tu mi dicesti e non le posso dimenticare quello che sarebbe stato diciamo un'avventura un percorso più ampio e dicevo ho trovato gente meravigliosa fatemi dire per esempio un grande grazie ai delegati sono persone che vanno sui campi per volontariato fanno volontariato e rappresentano la nostra lega sui campi lo fanno veramente con trasporto con con entusiasmo compassione pieno volontariato già questo è straordinario voglio ringraziare se posso anche tutti i colleghi ho già ringraziato ovviamente antenna sud che fa un lavoro eccesso l'ho detto proprio l'editore quest'estate quando ci siamo visti per la presentazione francavilla e gliel'ho detto di persona cioè credo cantina sud faccia un servizio che va molto al di là della puglia nel senso che è una televisione sì che parte dal locale ma una visione la televisione a tutti gli effetti nazionale proprio come mentalità dicevo tutti i colleghi che hanno permesso in questi mesi di fare il racconto di questo campionato voglio ringraziare ovviamente tutte le persone che dentro ai club lavorano perché spesso si parla del presidente si parla dei dirigenti ma sappiamo che le società sono fatte da tante figure sono le figure che spesso portano avanti il lavoro nel quotidiano sono le figure che per esempio si interfacciano con proprio con paolo bedino con manuele paolucci per la parte della segreteria anche con loro ci sono rapporti molto forti e molto consolidati mando ovviamente un saluto tutti quanti da da dal cerignola dove sono stato qualche mese fa a partire ovviamente dal presidente al brindisi con cui ci siamo sentiti spesso nelle settimane scorse e anche diciamo per le vicissitudini che erano legate allora lo stadio sono contento che sono riusciti arrivare nel loro stadio come come volevano fare al taranto al foggio aggiungo anche ovviamente francavilla l'ho già citato prima per per via di antonio magri che è diventato anche un amico in questi in questi anni al foggio logicamente come dicevo prima il lavoro che si sta facendo alle due squadre la basilicata che spesso diciamo questo antena sul sono raccontate quindi anche a loro il calcio al sud è una cosa magica cioè il calcio è bello da tutte le latitudini ma al sud è una cosa magica chi vive al sud di calcio sa a che cosa mi riferisco a volte anche i suoi eccessi a volte anche come dire ad abbracci che diventano molto stretti molto molto forti però fare calcio a sud ha un sapore speciale è un sapore straordinario penso alle migliaia di persone che vanno a taranto insomma penso al tanto che vedo ogni volta che guardo che sono di persona fisicamente presente in uno stadio della puglia la bellezza la passione la partecipazione quello è il motore l'anima del calcio la cosa più bella che c'è grazie presidente parole al miele per noi ne siamo contenti il nostro editore vorrei rispondere prego ciao matteo grazie grazie ancora di essere qui con noi questa sera grazie alla presenza anche di paolo che insomma ci fa destare all'interno della serie c come dicevo prima non so se ricollegato ci abbiamo sempre creduto nella serie c ci crediamo cerchiamo di fare sempre meglio e io sono consapevole lo dico con orgoglio ripeto con il ringraziamento sempre da parte di tutti i miei giornalisti gli operatori e noi entriamo effettivamente nelle case di tutti i pugliesi lucani non solo perché oggi ormai con la nuova tecnologia sull'app sullo streaming si seguono dappertutto quindi lo facciamo con passione ecco lo facciamo con passione seguiamo queste squadre perché secondo me senza di noi di quello che facciamo non una volta a settimana sino presente noi lo facciamo ogni giorno giorno a me facciamo trasmissioni seguiamo le società su tutti i campi su tutte le loro città quindi diciamo la nostra presenza credo che sia ben vista che collaboriamo sempre con loro collaboriamo con voi con la serie c con l'eccellenza con la serie d e non togliete la possibilità insomma alle emittenti locali di poter vivere stare presente e dare lusso a tutte le società calcistiche questo è quello che vi chiedo con molta attenzione insomma messaggio chiaro non solo ti rassicuro ti rassicuro non solo non togliamo ma come tu ben sai proprio nell'accordo tra l'altro l'ha curato direttamente paolo vedi quindi è lì il studio per lo potre testimoniare benissimo abbiamo noi volutamente tenuto uno spazio proprio per l'emittenza locale che tra l'altro anch'essa segna quest'anno un fortissimo segno più la dimostrazione di come l'interesse rinato per questa serie c sia anche diciamo nell'emittenza locale che poi è è la forza come dire anche proprio il contatto continuo con il territorio oggi non è un caso che paolo sia presente da voi in studio l'abbiamo voluto e lo ringrazio perché questi sono giorni anche di riposo di festa ma ha preso l'aereo e venuto appositamente per per testimoniare la presenza della lega pro ci tenevamo volevamo esserci e questo per tutta una serie appunto di significati per gratitudine nei confronti vostri e del lavoro che svolgete e ribadisco una volta in più se posso personale di gratitudine nei confronti in particolare della puglia è una terra che mi ha dato il grande sostegno diciamo elettorale per vincere queste elezioni che mi ha accompagnato tantissimi in questi mesi in questi mesi ribadisco visto lì appunto in studio inquadrato più volte vi totisci che per me è un amico carissimo e rappresento ovviamente tanto di quello che anche la mia idea della della puglia e dicevo è una terra magnifica dove sono già venuto molte volte dove voglio tornare appena posto perché perché lo merita perché si sta ovviamente benissimo e si vive benissimo c'è una qualità straordinaria da tutti i punti di vista a partire dalle persone quindi noi sempre noi è importantissimo e ti assicuriamo ti rassicuriamo domenico non solo il fatto che l'emittenza di antenna sud sia garantita ma anzi se possiamo faremo ancora più cose possibili perché perché giusto e mentre scorrono queste immagini vedo tutti i club sono tantissimi club presenti saluto tutti i club è veramente mando a loro un grande affettuoso ringraziamento per quello che fate tutti i giorni noi siamo a firenze cerchiamo di fare il meglio possibile però siete voi la lega siete voi che fate poi la forza di questo campionato quindi ogni vostro sforzo è proteso a questo io cerco solo un po come dire a volte la presidente di coordinarlo cerco di dare di noi l'immagine migliore possibile perché lo dico spesso detto in assemblea qualcuno di delle persone presenti lì oggi c'era sì oggi è fondamentale come ci si presenta essendo un prodotto bisogna che il prodotto sia ovviamente un prodotto appetibile e il prodotto appetibile significa anche come ci presentiamo l'aspetto che abbiamo i nostri campi tutto quello che anche il contorno e quelli diciamo che non devono essere episodi che vanno a contaminare questo spettacolo che è uno spettacolo meraviglioso grazie presidente grazie davvero per queste parole auguri di buon anno da parte di noi tutti grazie auguri a tutti voi auguri a tutte le società pugliesi con il cuore un buon 2024 a voi e a noi tutti insieme grazie presidente facciamo rete grazie grazie ancora e allora flavio insalata sei insieme a nostro paolo tavano che è stato più volte eh nominato e anche elogiato per il suo lavoro portavano un'istituzione del del calcio pugliesi e tantissimi anni di dirigenza bari bisceglie adesso monopoli diciamo che non c'è calcio senza paolo tavano una vita spesa con il mondo del calcio prima di rispondere a questa domanda volevo fare i complimenti all'editore a dottor distante perché veramente io mi voglio mi associo a quello che ha detto il presidente Matteo Marani veramente voi sostenete il calcio c'è tutto in puglia lo sport pugliese lo sport pugliese deve vivere perché non è solo lo sport è un mezzo di comunicazione anche per tutti per i giovani per le famiglie per tutti quanti perciò le faccio i complimenti e vi ringrazio di avermi anche invitato questa sera ora posso anche risponderti allora sì c'è la questa passione per il calcio perché io ho iniziato dall'arbitro dalla lega giovanile poi ho fatto il guardialine serie a e b e poi sono stato chiamato dal bari inutile che ti racconto tutto poi le vicende del bari del fallimento fui chiamato da bisceglie e poi col monopoli monopoli mi diverto tantissimo è una società sana sana e abbiamo negli ultimi sei anni abbiamo preso delle soddisfazioni arrivando sempre ai playoff quest'anno ci stiamo divertendo ancora Marcello Chiricalo come l'ha trovato in forma da quando è tornato? No carico io ora sono contento perché voi potete fare anche le domande sul calciomercato perché si occupa lui no io intanto ringrazio intanto del dell'invito che mi avete fatto sono venuto veramente volentieri per quanto mi riguarda sono rientrato da un paio di mesi e quindi ora le mie attenzioni sono rivolte sicuramente a cercare di di migliorare quella della nostra squadra perché in questo momento siamo in una zona di classifica che è quella dei play out e quindi dobbiamo cercare a tutti i costi di venirne fuori Quanto è stata sofferta la decisione di cambiare allenatore direttore? Ma personalmente tanto tanto perché ho avuto modo di conoscere Tomei che non conoscevo perché io poi non l'ho scelto io e devo dire la verità ho trovato ho trovato un grande professionista soprattutto una persona che è un grande conoscitore di calcio e secondo me il Monopoli nonostante le difficoltà credo che abbia espresso un buon calcio poi magari sappiamo benissimo che tante volte i risultati determinano il percorso degli allenatori però in realtà mi è costato tanto ma allo stesso tempo c'era la necessità magari di cambiare perché poi abbiamo fatto quattro sconfitti consecutive in quel caso siccome non possiamo cambiare tutti i calciatori il più delle volte pagano gli allenatori anche se non è sempre la strada migliore però ora volevo un'indiscrezione potremmo vedere Roberto Taurino sulla panchina del Monopoli con buona pace Fabrizio di qualcuno che conosciamo che salterà le vacanze sì sì aveva prenotato le vacanze ma salteranno sicuramente lui l'allenatore domani penso che ci sarà l'ufficializzazione anche perché doveva rescindere insomma il contratto con il Monterosi quindi ci sono dei tempi tecnici per poter fare questo però credo che domani renderemo ufficiale la panchina di Taurino vabbè spieghiamo se no da casa non capiscono nulla perché la moglie di mister Taurino è una dipendente del gruppo editoriale distante e quindi aveva chiesto le ferie avrei dovuto lavorare io di più quindi sono stato contento quando l'avete ingaggiato ecco soltanto questi sono saltate le ferie di Anna Saponaro che salutiamo perché ci sta seguendo un bacio Anna farete molto sul mercato? ultima cosa giusto per capire? io credo che dobbiamo intervenire dobbiamo intervenire ed è anche normale quando una squadra voglio dire in questo momento è in difficoltà e cercheremo di fare del nostro meglio tenendo presente sempre le regole che ci sono che sono quelle delle liste con 24 giocatori quindi sappiamo bene che il mercato poi di gennaio è un mercato lo chiamiamo di riparazione è un mercato difficile da poter fare però sicuramente dobbiamo cercare di migliorare questa squadra ci vediamo con me e con Flavio a Milano e le staremo alle costole voi siete abbastanza... ci sentiamo domani grazie e complimenti anche a Vono Policarcio grazie direttore noi siamo quasi sempre in cravatta lo so lo so che siete quasi sempre in cravatta però dato che ci sono le società possiamo cominciare a dare qualche chicca di mercato Fabrizio Caglianiello no da te da te senza coinvolgerli secondo te che cosa succederà? ho il direttore Montrevino che mi sta minacciando da quando è arrivato quindi vorrei uscire... no allora so che il Casarano farà qualcosa probabilmente un centrocampista fa un under esterno d'attacco fa un attaccante esterno 2005 d'attacco si è l'unica cosa che penso vorremmo fare le piace Oppula? che anno è? 2004 non si può fare? e quindi non mi piace e allora lo lasciamo all'altamura Max Martelli all'altamura piace Oppula è vero direttore? Oppula sicuramente mi piacerà a tutti tutti quelli che bene o mai lo conoscono poi c'è il presidente Arigliano che lo conosce benissimo sa le sue potenzialità io so che l'altamura è realmente intenzionato ha fatto una proposta alla Carrarese naturalmente ci sono stati dei contatti come in questo periodo ci sono sempre attendiamo e vediamo cosa succederà quindi abbiamo la notizia confermata che abbiamo dato su Antenna Sud l'altamura vuole Oppula poi vediamo guarda noi ridiamo e scherziamo però in effetti il gala del calcio diventa anche un'occasione di incontro tra i dirigenti che parlano spesso di calciomercato prima stavano facendo una trattativa a Brindisi e Casarano vedi? e allora? i telefoni il telefono di Montermino è quello del presidente Arigliano si scambiavano i messaggi come si faceva a scuola con i bigliettini stavate parlando? dove andare a cena dopo? ah questa era la trattativa poi a cena nascono le migliori trattative non è vero lui insisteva a voler pagare alla fine paga di toro per tutti ah perfetto ok allora quindi al corto ho trovato quello che è più tranquillo in questo momento può permettersi ma tranquillo è morto te lo dico io ecco un po' di scaramanzia ci vuole comunque Montervino è irrequieto anche su questa panchina non so se avete notato sì però non è stato espulso ancora no no ho preso soltanto due espulsioni quest'anno quindi sono abbastanza tranquillo sereno invece qui deve stare seduto fino alla fine Montervino le tocca va bene non esiste espulsione allora noi abbiamo fatto il corso insieme da direttori sportivi stava sempre irrequieto pure anche lì si facciamo andare fuori come a scuola dalla prof noi facciamo parte di quelli che sono abilitati per fare i direttori ha preso solo due espulsioni perché non gioca più contro il Brindisi questo è derby derby sul derby va bene adesso possiamo fermarci per la pubblicità e allora tra poco parleremo anche di Lecce del Lecce quindi restate con noi perché il Galà del Calcio continua che è il Galà del Calcio pugliese allora adesso interagiamo con il presidente Vito Tisci presidente tra pochi giorni ci saranno i raduni selettivi giusto? gennaio sono sempre aggiornata è una notizia fresca di ieri sera il 2 gennaio parte il primo raduno anzi primi raduni mattina e pomeriggio presso il nostro centro di formazione federale di Capurso guidato da Vincenzo Tavarile e tutto lo staff dei nostri tecnici sperando di avere un risultato positivo al prossimo torneo di regioni che si terrà in Liguria dal 22 al 21 marzo però consentimi Claudia è doverosa parte mia alcuni ringraziamenti uno per l'invito di questa sera che vengo sempre con piacere sono un ospite fisso ho saltato solo un anno soprattutto il periodo forse il primo dopo il covid e devo ringraziare il gruppo editoriale distante Mino Distante un amico di vecchia data uno sportivo un appassionato in calcio un imprenditore lungimirante per gli investimenti che sta facendo nel portare il calcio pugliese sempre più in alto dà la giusta visibilità anche quest'anno il gruppo distante ha sposato il nostro progetto della diretta televisiva nei cambiamenti di eccellenza di C1 di Calciacinque dimostrando grande grande visione grande grande lungimiranza devo dire che questo è stato battizzato la casa del calcio pugliese è vero è la casa del calcio c'erano tutte le componenti federazioni leghe società varie figure delle società ecco è anche un'occasione per fare un po' il bilancio dell'annata programmare il futuro anticipare qualche scopo di mercato ma vedo che è un grande piacere dal presidente del contro Puglia che questo legame ogni anno si rafforza sempre di più fra le società e il gruppo di Stanley e Antenna Sud grazie anche al lavoro che viene svolto dalla redazione sportiva dal direttore Gianni Sebastio a tutti i giornalisti che incontro settimanalmente sui campi o presso il mio ufficio che portano avanti il loro impegno con grande personalità competenza e grande passione grazie di cuore un pensiero a Cristina Cavallo che oggi non c'è non è in condizioni fisiche ottimale però anche lei contribuisce anche a lei allo sviluppo del nostro movimento come no Presidente e allora abbiamo fissato queste due date per le finali di Coppa Italia tra Manduria e Molfetta 21 gennaio 4 febbraio tutto a posto tutto organizzato tutto organizzato da stamattina parte la macchina organizzativa ho convocato le due società i dirigenti del Manduria e del Molfetta il sorteggio ha decretato la prima gara a Manduria che ad oggi non c'è il campo dovrebbe disputarsi la data sul campo di Sava e il ritorno alle 16.30 sul campo del Molfetta dove ci sarà anche la premiazione è una manifestazione di grande prestigio è una manifestazione che permette l'accesso se si arriva fino alla finale l'accesso nel cambiato di Serie D per cui ha una sua importanza la tradizione è stata sempre dalla nostra parte l'anno scorso è andato male con il Manfredoni ma vorrei ricordare due anni fa il Barletta ha vinto di Costanzo Maggiore e quell'anno ha vinto sia il campionato che la Coppa Italia per cui mi auguro che queste due squadre che sono due criticità importanti dal punto di vista dei tifosi e degli abitanti ma soprattutto per il loro passato sportivo che possono o attraverso il campionato o attraverso la Coppa Italia poter raggiungere o attraverso i pre-off poter raggiungere il campionato nazionale che è il loro principale obiettivo Presidente questa riforma dello sport come sta toccando il calcio dilettantistico? La riforma dello sport ha avuto un impatto come ha detto l'Avvocato Barbi devastante soprattutto secondo me è mancata un po' la comunicazione ha buttato le società e i dirigenti ne hanno sconforto noi come primo anno dall'entrata in vigore del decreto 36 del 2021 meglio conosciuto come riforma dello sport abbiamo tenuto gli stessi numeri dello scorso anno però ecco sono aumentate le incompenze a capo dei dirigenti dei presidenti vengono tutelate alcune figure attraverso la sottoscrizione dei contratti ecco ci arriveremo ci vorranno un po' di anni finché possa essere assimilata e possa essere accettata questa riforma e allora come vede questi due conduttori Presidente? io se posso svelare sono stato io che li ho è stato lui è stato lui a etichettare Pio e Amedeo come li ho visti grazie Presidente per cui Claudio l'ha detto ma sono stato io sono due ottimi conduttori poi li conosco da decenni per cui secondo me sono pronti per Sanremo Presidente ho con loro un grande rapporto non solo sportivo ma anche di amicizia perché ci incontriamo anche a cena spesso per parlare di calcio perché l'unico argomento che si può parlare è con Caglianello a cena con Caglianello si può parlare a altri argomenti paga Caglianello non si può dire presto ancora paga Caglianello alla fine ma chi mi conosce sa che non faccio mai pagare chi ho di fronte sia donna che uomo ecco perché le gira sempre a turno Caglianello ecco perché a cena quindi dopo sono prenotato grazie ragazzi parola a voi vorrei se Flavio è d'accordo chiamare qui mister Capuano e il capitano Vannucchi se è possibile così scambiamo due chiacchiere anche con loro grazie intanto per essere qui ancora una volta mister col suo rispetto vorrei partire da Vannucchi al quale faccio la domanda più scontata in questi casi come avere Ezio Capuano come allenatore ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito ma è avere il mister come è avere il mister è un privilegio un onore ma anche un grande un bel un bel impegno perché tutti i giorni una bella responsabilità una bella responsabilità perché tutti i giorni ci ci martella usiamo questo termine pesantemente per raggiungere i nostri i nostri obiettivi una stagione una stagione fin qui bellissima sinceramente ma sì stagione stiamo facendo una stagione abbastanza importante però la nostra la nostra idea è quella di non fermarci qua è quella di continuare a lavorare giorno dopo giorno e continuare questo cammino che che per adesso è positivo mister ci racconta qualche aneddoto ma Varnucchi ha detto che lei li martella durante la durante la settimana io ho il privilegio di aver cioè il presidente Giove chiariamolo se no qualcuno è il direttore sportivo perché io se volevo lo ripeto fino all'inverosibile se volevo fare il direttore sportivo non ho né le capacità e né le qualità altrimenti mi siedevo a Coverciano per due mesi avendo il master o il massimo del punteggio quindi lo potevo fare io dopo tanti anni penso di conoscere qualche giocatore quindi abbiamo fatto questo bel giocattolo che sta dando delle soddisfazioni importanti noi pensiamo di avere una discreta squadra soprattutto a prescindere ogni cosa questi giocatori sono stati presi prima gli uomini e poi i giocatori perché poi avere me come allenatore adesso a parte gli scherzi è una rottura di coglioni continua perché io onestamente sono uno particolare cioè voglio dire per me il risultato importante non per noi per quella gente che vive in base al risultato della nostra squadra tutta la settimana e quindi io cerco in ogni allenamento di inculcare questa cultura cioè per me l'allenamento non è allenare la squadra è migliorare una qualità nella prestazione singola che poi possa enfatizzare l'enfatizzazione del gruppo al momento noi stiamo facendo bene io prima sentivo il direttore greco che gli faccio i complimenti che doveva avere qualche punto in più noi voglio rimembrare un concetto noi siamo stati vittima di qualcosa che non è di peso da noi nella prima giornata di campionato quando è successo quello che è successo ci hanno mandati a giocare sempre due partite campo neutro porte chiuse e potevamo sicuramente avere qualche punto in più ci hanno fatto giocare ogni tre giorni e siamo arrivati a partite importanti quanto non ci si poteva allenare con tutto ciò mi sembra che al momento abbiamo 33 punti frutto di un lavoro certosino di un lavoro programmato abbiamo il piacere di rappresentare Taranto perché penso che Taranto sia una piazza dove tutti vorrebbero lavorare ma è un privilegio per pochi quindi vogliamo andare avanti il nostro obiettivo l'ho dichiarato all'inizio era quello di mantenere la categoria e cercare di fare un punto in più rispetto all'anno scorso vale a dire l'anno scorso noi per un gol non siamo entrati nei playoff perché siamo usciti fuori con la classifica pulsa facendo un secondo me un capolavoro calcistico perché ci davano tutti per retrocessi quindi non solo siamo arrivati a conquistare una salvezza ma ripeto per un gol e quest'anno abbiamo avuto il coraggio di dire che volevamo cercare di entrare nei playoff al momento ci siamo sappiamo che per mantenerli sarà difficilissimo però nel contempo noi non ci poniamo nessun limite al microfono di Gianni Sebastio però ha detto di avere un sogno il sogno è diverso dall'obiettivo però quanto la renderebbe orgoglioso portare il Taranto dove manca da un po' di tempo ma io non ho mai parlato allora innanzitutto non bisogna far voli pindarici penso che la Lega ha dato i budget delle 90 squadre di Serie C dove qualcuno magari ha fatto anche il furbetto perché poi non ci si mette dentro la fase premiante che poi va nel monte in caggi basta guardare quello che abbiamo speso noi rispetto a quello che hanno speso gli altri quindi vuol dire che Massimo Giove è stato un fenomeno bene quindi noi abbiamo fatto una programmazione nei tre anni proprio perché sappiamo che non possiamo competere con squadre che hanno una potenzialità economica notevolissima cerchiamo di sopperire attraverso le idee attraverso un minimo di competenza è normale che Taranto non può fare la Serie C questo non c'è un pre di dubbio Taranto in D è come vedere Belen fare la barrissa in un bar cioè voglio dire il Taranto ha fatto la Diver tanti anni è come se tu metti Belen a fare i caffè la mattina voglio dire per usare una metafora così per usare anche un po' di sarcasmo è normale che Taranto ha un potenziale di pubblico di 12.000 13.000 qui c'è gente che ha lavorato col Taranto il direttore Montervino ha vinto un campionato è stato uno dei fautori a riportarla nel calcio professionistico e io in questo momento ho questo onore e questo onere e noi lavoriamo quotidianamente però guai fare voli i pindarici noi siamo lì sento di tutti che fanno miracoli noi siamo lì in sordina voglio dire prima sentivo tante cose noi mi sembra che se vedo la classifica non vorrei sbagliare siamo a due punti dalla seconda e a un punto da chi dice che sta facendo i miracoli e quindi vuol dire che noi stiamo facendo bene e quindi questo ci inorgoglisce posso fare una domanda a Vannucchi nel frattempo voglio chiedere a Vannucchi come fa Capuano a scegliere il rigorista durante gli allenamenti in settimana qua sta toccando un argomento proprio delicatissimo la voglio sapere in settimana io rispondo io grazie la rispondo io siccome io nel battere i rigori sono un fenomeno no non ci crede allora quanto gli faccio battere i rigori allora loro vanno in un pochettino in ansia la prestazione e poi sbagliano poi il mister mette anche un po' di pressione sul rigorista anche non essendoci tifosi quindi cerca di ricreare quell'atmosfera no dai i rigori si può sbagliare noi siamo sfortunati ne abbiamo sbagliati tutti quelli che ci hanno dato li abbiamo sbagliati tutti quindi vuol dire che non sono capace io di allenare a calciare i rigori deve andare lei va bene Gianmarco Vannucchi però Capuano non ci ha raccontato qualche aneddoto lo facciamo svelare a te chiaramente non quelli della sacralità dello spogliatoio quelli che si possono dire aneddoti aneddoti non ce ne sono il mister è questo quello che vedete senza filtri sì sì è questo il mister è questo sia dentro lo spogliatoio sia fuori quando una cosa che mi viene in mente quando c'è la partita non come hai detto prima non ha filtri quello che vedi in campo è quello che riporta dentro gli spogliatoi sente la partita come giusto che sia e secondo me questo è anche la sua forza che lo ha portato a fare questa carriera non voglio sapere quale ma vi siete fissati un obiettivo nel vostro cuore quest'anno obiettivi l'obiettivo l'ho detto prima lo dico senza senza problemi l'obiettivo è quello adesso di ricaricare le pile andare a Foggia il 6 il 6 gennaio e cercare di fare un'altra grande prestazione e poi affrontare tutte le partite cercare di affrontare tutte le partite nello stesso modo grazie Gianmarco grazie grazie ragazzi complimenti al Taranto no perché dobbiamo andare subito al prossimo collegamento tanto avremo modo di parlare ancora del Taranto perché gentilmente si è collegato con noi l'amministratore delegato del Lecce Calcio Sandro Mencucci intanto buonasera Mencucci buonasera buonasera a tutti grazie per aver accettato il nostro invito scusate se sentite scusate se sentite un po' di confusione ma ho portato la mia squadra primavera a cena fuori e allora era insomma siamo in un locale se lo meritano questi ragazzi se lo meritano dopo quello che hanno fatto di straordinario beh sì assolutamente poi voi sapete che noi teniamo molto alla squadra primavera come nello stesso modo a cui teniamo la squadra alla prima squadra per cui è giusto festeggiare anche con loro il Natale però volevo prendere l'occasione un attimo per salutare il mister Capuano e il Taranto e il presidente giove perché li seguo con grande affetto con grande ammirazione buonasera innanzitutto e ringrazio il nome mio personale al nome di Massimo Giove e stendo i complimenti anche a voi alla Pantaleo Corvino per le grandi cose che state facendo a Lecce quindi vi ringrazio per i complimenti ma ve li do col cuore perché state facendo qualcosa di importante sia col settore giovanile e sia con la prima squadra Grazie mister i complimenti di lei sono sempre una cosa molto particolare e ben accettiva Allora Vencucci le volevo chiedere se tra questi ragazzi c'è chi è già pronto per giocare chissà contro l'Atalanta alle 12.30 sabato c'è qualcuno già pronto tra questi ragazzi? Ora già subito con l'Atalanta direi che sarebbe un pochino troppo presto però devo dire che nella prima squadra abbiamo in rosa già diversi giocatori che venivano dalla scorsa stagione dove non dimentichiamo che abbiamo vinto lo Scudetto una squadra come Lecce che comunque si ripresentava nella primavera una dopo tanti anni si era salvata l'ultima giornata l'anno prima abbiamo vinto lo Scudetto per cui io credo abbiamo fatto una grandissima cosa poi è chiaro che nella strategia del Lecce di adesso ma anche di quella di anni fa comunque la strategia di Corvino è quella di creare giocatori dal basso dal settore giovanile portarli in prima squadra e quindi credo che molti di loro potranno vorre poi coronare il sogno di andare in una squadra comunque calcare la Serie A se non la Serie B o la Serie C comunque un campionato professionistico Mencucci gli uomini di calcio vivono anche anzi soprattutto di sensazioni che cosa avverte per questa stagione questa stagione la vedo difficile ancora più difficile lo scorso anno se vi devo dire la verità perché nonostante la nostra posizione sia per il momento tranquilla però vedo squadre agguerrite anche dietro di noi siamo in buona compagnia ovviamente però se io penso sempre come tutti sono in tre a dover retrocedere chi sono queste tre e vedo squadre che anche se hanno meno punti di noi non sono assolutamente già spacciate avete visto una salernitana che addirittura ha rischiato di vincere con il Milan che ha pareggiato all'ultimo minuto con Jovic per cui niente è definito anche questo minimo vantaggio che abbiamo dobbiamo tenerselo stretto ma io credo che sarà una lotta dura che finirà all'ultimo o alla penultima del campionato per sapere chi va in Serie B noi vi auguriamo ovviamente l'in bocca al lupo e se posso chiederle Mencucci che cosa state mangiando perché vedo tanti vini dietro di lei ma state bevendo acqua immagino con i ragazzi devo dire che ai ragazzi abbiamo dato acqua però a quelli un po' più grandicelli qualche bottiglia è stata aperta va bene va bene si può brindare parlando del Lecce si può brindare ve lo meritate grazie grazie di cuore in bocca al lupo per la stagione Mencucci grazie a voi grazie per l'invito io credo che sia sempre importante che Lecce sia presente in tutte le trasmissioni perché la nostra terra ci aiuta tantissimo è incomiabile il tifo che abbiamo non solo in casa ma anche quello fuori casa per esempio andiamo a Bergamo dove c'era una limitazione nella vendita dei biglietti c'erano soltanto 500 biglietti disponibili per i nostri tifosi che sono stati venduti nel giro di qualche ora e vedo la nostra tifoseria sempre qualche normalmente sono oltre mille a venire in trasferta che si fanno tutta l'Italia da sud a nord e ritorno per cui credo che sia uno degli elementi di forza del Lecce come anche delle altre squadre pugliesi e quindi insomma dobbiamo essere presenti per dimostrare ogni volta l'affetto che noi abbiamo per loro e lo stesso che loro hanno per noi ringraziamo l'amministratore delegato dell'Ecce Calcio Sandro Mencucci in bocca al lupo davvero e grazie per aver partecipato alla nostra traduzione Saluti il Presidente Saverio Sticchi di Amigliani ce lo saluti forte forte assolutamente ve lo saluto anzi ha fatto bene a ricordarlo perché lui stesso mi ha detto guarda saluta gli amici di Antenna Sud io naturalmente poi lui oltre a fare in maniera magistrale è uno dei migliori avvocati e professori di diritto amministrativo d'Italia per cui ovviamente ha molte cose da fare anche per la sua attività e quindi cerca di dividersi ma lo sta facendo in maniera egregia senza il Presidente non saremmo niente e sa anche giocare bene a calcio molto molto bene l'abbiamo visto all'opera con i giornalisti grazie grazie di cuore infatti io da ieri non lo chiamo più Presidente ma lo chiamo Capitano perché naturalmente indossava la fascia grazie grazie Mencucci buon proseguimento di serata e allora giustamente si parla di giovani Fabrizio il Presidente come link per continuare a parlare di giovani uno dei club più virtuosi in questo senso è proprio scusate il gioco di parole la Virtus Francavilla salutiamo il Presidente Antonio Magri che ci sta seguendo non è qui con noi perché credo sia sparso per uno dei cento punti vendita che ormai ha con le sue aziende abbiamo qui Vittorio Orlando e Leonardo Di Punzio due dirigenti della Virtus Francavilla rappresentanza in particolare del nuovo settore giovanile bianco-azzurro che dobbiamo dire sta dando direttore grossissime soddisfazioni Sì grazie innanzitutto per l'invito per dedicare anche uno spazio per i settori giovanili sì diciamo che stiamo raccogliendo un po' i frutti che abbiamo seminato in questi anni diciamo un settore giovanile che sta dando grandi soddisfazioni al Presidente anche dal punto di vista non solo dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista di alcuni ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile che hanno fatto l'esordio in prima squadra La Tagliata classe 2005 l'esempio è più lampante oggi tra l'altro appetito da diversi club sì assolutamente la Tagliata è arrivato a Francavilla nel settore giovanile aveva 13 anni 14 anni quindi ha fatto tutta quanta la trafila o come anche Vapore 2006 Martina l'esordio di Martina di un francavillese doc insomma queste poi sono al di là dei risultati sportivi che al di là delle classifiche sono i risultati per i quali si lavora maggiormente Flavio se vuoi proseguire tu intanto parlavamo di La Tagliata diamo anche la notizia che sarebbe praticamente ad un passo lo hanno richiesto quasi tutti i club di Serie D è vicinissimo al Nardò dove potrebbe approdare in cambio di Enian assieme a Enian della Virtus Francavilla con Ingrosso che dovrebbe fare il percorso inverso e tornare invece alla Virtus Francavilla chiedo a Vittorio Orlando se ce la conferma questa voce questa sede innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito diciamo non posso né confermare né smentire perché probabilmente non sono la persona più adatta occupandomi del settore giovanile però è una voce che tutti gli addetti ai lavori stanno dicendo di cui si sta parlando insistentemente quindi vedremo lo sviluppo nei prossimi giorni se lo dice Caglianiello ci fidiamo nel frattempo Under 17 prima Under 15 prima forse piace anche a lui non lo so forse si inserisce il Casarano adesso sapevo che il presidente Magrino lo dava in D perché ci puntavano fortemente sul ragazzo quindi faccio fatica a pensare che lo darà il Nardò vediamo quello che succederà c'è una trattativa in atto lo sappiamo per certo calciomercato dico sempre in materia gassosa però credo che il presidente sia una persona di parola è una stoccata perché lo aveva richiesto lei direttore la ringrazio così abbiamo completato anche il quadro diciamo Under 17 prima Under 15 prima Under 14 che va di pari passo con società di serie A e serie B qual è il segreto di questa Virtus? ma il segreto è il lavoro il lavoro quotidiano il lavoro che svolgiamo tutti i giorni è la grande spinta la grande forza il grande impulso che ci dà il nostro presidente Antonio Magri che ci supporta quotidianamente in tutte le scelte in tutte le azioni che andiamo a mettere in atto ed è davvero molto importante per noi sentire la vicinanza della società io tra l'altro volevo collegarmi alle importanti dichiarazioni del presidente Marani della Lega Pro e del direttore generale Bedin perché hanno parlato di una Lega che tra le varie mission è quella della valorizzazione dei giovani italiani ecco noi crediamo che i club associati alla Lega Pro debbano mirare proprio a quello alla valorizzazione dei propri vivai dei giovani cresciuti nel settore giovanile e credo che noi negli ultimi anni stiamo dando dimostrazione di tra tante difficoltà ovviamente ma di star riuscendo a farlo ecco a metterlo in atto ovviamente i primi posti nei campionati giovani nazionali non possono che far piacere perché inorgogliscono un'intera città e un'intera società però non è quello il vero non è quella la vera vittoria di un settore giovanile ma come ha detto giustamente il direttore di Punzio il vero successo di un settore giovanile è quando si vedono approdare dei ragazzi cresciuti all'interno del proprio vivaglio come giustamente ha citato La Tagliata Vapore Martina che hanno fatto tutta la trafila dall'under 15 sino alla primavera e poi hanno esordito in prima squadra ecco questo è un dato di fatto che ci inorgoglisce davvero tanto vanno di pari passo le due cose perché se il settore giovanile è florido vince se il settore giovanile ha dei talenti importanti è su in classifica e loro poi esordiscono nelle prime squadre in bocca al lupo alla Virtus Francavilla grazie anche per il vostro contributo ci dai un minuto? ma mezzo per te volevo cominciare prego prego potete accomodarvi volevo cominciare a chiamare qua il direttore sportivo della capolista del Gironi H di Serie D come no Max Martelli che ha fatto facciamo un applauso all'Altamura per quello che sta facendo di meraviglioso l'Altamura è un capolavoro di consistenza io ho avuto modo di raccontarla nella partita di Matera miglior attacco miglior difesa del campionato società super ambiziosa è arrivato Mobili è arrivato Saraniti continuate a rinforzarvi direttore vediamo se c'è la possibilità abbiamo già detto che state trattando Pula quindi questo è svelato ormai naturalmente dici tutto tu campionato campionato straordinario esperto del mercato un grande campionato fino ad oggi però questo è il momento peggiore nel senso che si ricomincia inizia un altro campionato quindi ci vuole umiltà pazienza lavorare il doppio più concentrati di prima perché bisogna dare ancora di più un campionato anche bellissimo per l'equilibrio perché veramente tutte possono vincere e perdere contro tutte sì sì effettivamente è quello ma lo è stato penso negli ultimi due tre anni quattro anni sempre equilibrato fino all'ultima giornata quindi ad oggi praticamente ripeto si riparte da zero con grande umiltà capabilità ma direttore com'è lavorare con tutti quei soci ad Altamura perché ogni volta che ho il piacere di commentare la team Altamura trovo presidente direttore generale vari soci che comunque sono importanti in società diciamo siete uno squadrone anche fuori dal campo esatto ma più che uno squadrone siamo una famiglia si trattano tra di loro come dei fratelli rispetto c'è la risatina quando c'è da lavorare seriamente si lavora quindi si impegnano tutti per dare il massimo e per portare al massimo anche la squadra chi è quello più esigente? no non c'è nessuno più esigente sono proprio rompiscatole no sono tutti imprenditori poi ognuno si divide i suoi compitini e quindi speriamo di di fare diciamo una macchina perfetta però rinnoviamo il contratto al direttore con l'adeguamento si ricorda chi è l'ultimo allenatore che ha portato l'Altamura a tre professionisti? il mister Capuano lo invitiamo qui mister in effetti si ha fatto la storia dell'Altamura era l'anno era il 95-96 adesso non ricordo bene vi dotisci forse si ricorda che era da là 95-97 dice il direttore Caligani io ricordo 95-96 95-96 ricordo noi eravamo una squadra tutti ragazzini avevo preso Moscelli che ne veniva dalla prima era del Bari Vito Sardone una squadra che anche lì ci davano tutti dove vanno c'erano squadre fortissime e noi vincemmo sì vincemmo il campionato vincemmo bene una prima vittoria di mister Capuano ero un ragazzino avevo poi l'anno dopo rinzi anche avevo 30 anni 31 anni giovanissimo ricordo con grande piacere ad Altamura poi l'allora presidente è diventato il mio compare di fede quindi c'ho tanti amici e onestamente fa piacere se l'Altamura dovesse ritornare tra i professionisti questo non c'è un bravo dubbio perché si dice il napoletano prima morre non si scorda mai quindi è stato il primo successo importante anche se qualche anno prima avevo vinto con la Pro Salerno dall'eccellenza all'interregionale però lì è stato sì vi auguro di far bene come state facendo ci sono però concorrenti molto aggueriti il Nardò è una grande squadra il Casarani è una squadra importante voglio dire ci sono le squadre le squadre agguerrite un bel campionato veramente un bel campionato un bel campionato lungo e tempestoso come il mister sta benissimo e vinca la migliore dunque grazie certo grazie 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 direttore in bocca al lupo complimenti complimenti alla team Altamura Claudia e allora abbiamo qui anche Giacinto Franceschini vice presidente dell'AIA sarebbe dovuto essere qui con noi anche il presidente Domenico Cieli ma non c'è riporto il suo saluto purtroppo motivi familiari rimasto giù in Calabria va bene va bene quindi lo salutiamo anche qui da studio un amico di Antenna Sud così come lo è lei lo possiamo dire? lo spero so che ci sono stati degli esami in questo mese sono stati sfornati a Bari un po' di arbitri 72 arbitri nuovi la bella notizia è che ci sono 10 donne tra questi arbitri 10 ragazze ci sono molti giovani di 14-15 anni che si affacciano sul palcoscenico per arbitrare cosa non facile vista la loro bassa diciamo bassa età c'è stata una nuova era in Lega Pro anche una nuova era per il Cran se vogliamo commentare questi mesi che vi ha visti in qualche modo protagonisti beh sono stati questi primi sei mesi abbastanza intensi dobbiamo ringraziare anche voi come emittente perché ci fornite sempre materiale per poter studiare per poter fare delle call almeno una volta al mese con tutti gli arbitri per poter poterci confrontare con tutti quelli che sono stati gli eventuali errori cose positive cose negative però serve per la loro crescita ma soprattutto perché il presidente Celi ci tiene a passare a farli diventare già proiettati verso le categorie nazionali e solo facendo questo lavoro sia con gli arbitri poi con gli assistenti anche con gli osservatori si può riuscire a recuperare quello che un gap che si è formato in questi anni quando voi ricordate benissimo avevamo dieci arbitri in serie A in serie B su 37 adesso ne contiamo solamente tre ci vorrà del tempo ci vuole tempo per selezionare e bisogna accelerare questo diciamo progetto di formazione ci dà la possibilità Franceschini di ringraziare e fare i complimenti anche ai nostri operatori che tutti i fine settimana vanno sui campi e quindi sono colori quali vi fornissero anche le immagini è stata la prima cosa che ho detto perché voi ci mettete a disposizione tutto il materiale che a noi serve ci vuol dire un po' quello che è il termometro dell'arbitraggio in Puglia ma anche in Basilicata nella nostra zona ci sono ottimi feedback per quello che vi riguarda? ci sono arbitri che sono in attesa di essere proiettati nell'ambito nazionale noi speriamo purtroppo devo ricordare una cosa abbiamo perso qualche anno fa un elemento che probabilmente c'è sicuramente avrebbe calcato i campi nazionali mi riferisco all'arbitro di Lesce De Santis ed è una figura che a noi manca tantissimo però contiamo di di selezionare di far sì che tanti ragazzi possano arrivare a quelli che sono stati i risultati che hanno tenuto i vari Celi i vari D'Amato Giannoccaro di bello adesso e quindi recuperare Franceschini vogliamo dire qualcosa a Montervino che si fa sempre spellere quando si gioca allora lei da rappresentante della categoria che cosa vuol dire a Montervino bisogna stare seduti in silenzio durante le partite è difficile è difficile però un consiglio a Montervino chiudiamo così con un consiglio il consiglio che posso dare è che non c'è da parte nostra un accanimento verso qualcuno cioè noi cerchiamo solo di applicare qualche volta sbagliamo sicuramente sbagliamo diciamo che ci deve essere un rapporto di collaborazione tra le due parti bisogna parlarsi un po' di più ultimamente però abbiamo parlato a parte tutto poi devo ringraziare il presidente Tesci con cui in questo periodo c'è un rapporto di collaborazione tra noi ma soprattutto il presidente con il presidente Celi e il presidente abbiamo preso degli accordi perché deve organizzare una riunione con tutte le società pugliesi e anche Maria Sole Caputi chiedo scusa se ho interrotto però Maria Sole Caputi è un po' l'emblema di quelle che sono di quelle che sono le arbitre abbiamo qualche ragazza arbitre abbiamo qualche ragazza a Bari ma anche in Puglia in questo momento solo a Bari a livello nazionale che è la Cristiana e la Raspata molto brava Cristiana mi voleva dire qualcosa presidente non ho detto a matura un termine ma avete detto di star zitto no ma la collaborazione c'è prima della partita prima della partita e quel fisco iniziale sa cosa c'è che la transagonistica mi ha sempre contraddistinto in 30 anni di calcio e anche da dirigente c'è solo un modo per potermi far tranquillo non andare in panchina però ancora amo vivere quel momento poi ci saranno sicuramente momenti dove crescerò e sarò più bravo non è sicuramente questo va bene quando andrà a letto quando andrà a letto grazie Franceschini ci saluti Domenico Cieli da parte nostra ragazzi allora c'è il rush finale adesso vogliamo celebrare il Martina perché è una delle straordinarie realtà di questa serie D chiamiamo qui si guarda attorno e a te Emanuele l'onore di rappresentare una squadra bellissima io ricordo la scorsa estate nella nostra trasmissione speciale calciomercato il presidente del Martina dissero vogliamo alzare la sticella furono anche criticati per quelle dichiarazioni ma i risultati gli stanno dando ragione sì buonasera a tutti grazie per l'invito sì ci fu un post del presidente Soldano che fu mal interpretato perché furono lette soltanto le prime tre righe di quel post e non la parte finale ma diciamo che alla fine la filosofia del Martina è abbastanza chiara da alcuni anni noi abbiamo una filosofia per fare un calcio diverso con questo non dico che è migliore degli altri attenzione è diverso nel senso che la società con a capo i due presidenti la Carbonara e Soldano predilige andare alla scoperta di talenti di calciatori diciamo ai più sconosciuti e forse per questo motivo non abbiamo molto credito perché magari l'idea collettiva è quella che chi acquisisce le prestazioni magari di calciatori un po' più importanti siano poi le squadre favorite noi invece sono tre anni che andiamo alla ricerca di calciatori un po' dall'eccellenza come in quest'anno soprattutto abbiamo fatto che poi si rivelano comunque degli ottimi atleti e i risultati sono questi ci divertiamo abbiamo riportato l'entusiasmo al Tursi e siamo contenti se la gente di Martina è contenta il nostro primo obiettivo è quello che chi ci segue sia orgoglioso di questa squadra e poi i risultati in questo momento sono veramente favorevoli frutto di un progetto che è nato quattro anni fa e non a caso infatti il mister Pizzulli sono quattro anni che a Martina nel calcio moderno ritengo sia un caso abbastanza raro perché è difficile trovare un tecnico che per quattro stagioni consecutive siede su una panchina e quindi insomma una considerazione diciamo finale che il calciatore più tra virgolette anziano della nostra squadra è 29 anni noi non abbiamo nessun calciatore che ha più di 30 anni e questa la dice lunga appunto sulla nostra strategia abbiamo cercato di migliorare l'organizzazione infatti poc'anzi si parlava della riforma dello sport che noi abbiamo colto come un'opportunità anziché come diciamo una crisi per qualche società perché abbiamo colto da subito l'opportunità di stipulare contratti pluriennali con i calciatori più importanti che abbiamo su cui credevamo e che oggi rappresentano il nostro patrimonio rappresentano e quindi diciamo che c'è già una vittoria dal punto di vista della gestione per questo bisogna respingere gli attacchi degli altri club che si sono buttati sui vostri talenti ma a Martina si sta bene è una città bellissima si vive bene la società è seria solida quindi gli attacchi ci possono essere ma ritengo che questo gruppo sia sia coeso la società sicuramente non credo voglia privarsi dei propri gioielli andiamo avanti ci divertiamo e poi vediamo il risultato finale quale sarà certamente ci fa piacere non essere post in pole position nessuno parla del meglio a fare i spenti a fare i spenti poi vediamo quello che sarà tra l'altro è il Martina uno dei abbiamo visto i gol anche poco fa uno dei simboli di questo nuovo progetto è questo giocatore straordinario Palermo piace a tanti sì piace a tanti qui ed è il figlio del grande Martin Palermo che insomma chi ama il calcio sudamericano ricorderà Palermo è un calcio emblematico perché l'anno scorso giocava in eccellenza Sarda in una squadra che è arrivata poco sopra i play out nessuno lo conosceva quando l'abbiamo preso forse qualcuno anche un po' era un po' stroceva il naso però poi si è rivelato attualmente il capocannoniere del girone H e non è poco c'è una grande competizione tra Martino e Fasano però è una competizione sana soprattutto tra tra dirigenti Presidente D'Amico rappresenta invece la storia di Fasano sì buonasera grazie per l'invito al padrone di casa ovviamente perché lui non manca mai l'occasione di citarmi in tutte le diciamo le nostre belle manifestazioni Montalbano Francavilla famosissimi sono passati troppi anni Mino li ricorda forse più di me con piacere ovviamente quanto riguarda la stagione Presidente avete iniziato benissimo io ho detto oggettivamente Fasano mi sembra una delle squadre che esprimesse uno del il miglior calcio quasi nel senso che ho visto io glielo ho detto a volte date l'impressione di volare non di giocare poi a un certo punto che è successo si è spenta la luce un po' di inesperienza forse squadra molto giovane probabilmente sì magari a noi manca diciamo l'elemento o qualche elemento che nei momenti di difficoltà potrebbe dare una mano al resto della squadra però non è un grande problema perché a livello di prestazioni io sono molto contento perché la squadra ha sempre espresso un calcio importante anche nell'ultimo periodo dove i risultati sono venuti un po' meno siccome ritengo che quando una squadra magari ha dei risultati un po' così però il gioco c'è ed è viva non sono assolutamente preoccupato anche perché ho sentito delle voci gli addetti ai lavori perché cambio allenatore come capita spesso quando le cose non vanno bene non ha mai preso in considerazione l'ipotesi ma io pochissime volte l'ho fatto in vita mia e ritengo che non sia anche perché ha sfornato fior fior di allenatori negli ultimi anni sì è una grande soddisfazione quella di aver dato la possibilità l'hanno meritato ovviamente loro ma io ho dato la possibilità a giocatori e allenatori che oggi parliamo anche di giocatori c'è il direttore di Toro che si gusta il suo capomaggio che è uno dei talenti il discorso è un problema perché molti mi chiedono come mai non si riesce a fare un progetto di continuità ma se purtroppo nella mia strada incontro qualcuno come di Toro che mi corre sempre dietro a rubarmi i migliori e diventa difficile è il primo anno si prende d'orvalo poi si prende capomaggio quest'anno si prende l'allenatore è complicato per me però con grande onore e piacere sinceramente io ho detto Presidente c'è una strada preferenziale cioè io quando fa qualcosa lo seguo capito quindi per me è un'ottima soluzione c'ho qualche cosa adesso per te dai anche quest'anno sarà così ma ripeto chi è il prossimo? chi è il prossimo? eh va bene lo vedremo a giugno svegliamo le nostre cose Presidente siccome ho sentito tante tante espressioni calcistiche devo dire questo è bello le vittorie per noi dirigenti sono quelli di fare un percorso che dura 30-40 anni per me come per chi l'ha fatto il mister Capuano adesso diceva che ha vinto 30 anni fa è una grande soddisfazione queste sono le vittorie più importanti grazie complimenti anche al Fasano complimenti grazie Presidente grazie Emanuele Santoruo a proposito di mercato io inviterei qui qualcuno del Barletta perché oggi ha battuto ha battuto un colpo ma mi sa che ne batterà altri e ora chiediamo al direttore generale Beppe Camicia anche se c'è Marcello Pitino che non ci è venuto a trovare però qui c'è c'è bisogno di una scossa anche perché non possiamo nasconderci la situazione a Barletta è quella che raccontiamo tutti i giorni voi volete reagire regalando a mister Bitetto dei rinforzi beh certamente la situazione che si respira in questo momento a Barletta non è sicuramente piacevole inizio anno sono stati fatti dei proclami che in questo momento purtroppo sono disattesi e quindi c'è un po' di fermento la nostra volontà è quella di mettere assolutamente a disposizione del mister Bitetto la miglior la miglior formazione per venire fuori da questo momento no io fino a qualche giorno fa mi sono occupato anche di mercato e come sempre ho detto ho fatto la traghettatore adesso finalmente ho lasciato il testimone a Marcello Pitino e come società abbiamo dato piena disponibilità con un budget anche abbastanza importante appunto per rimettere sulla corsia sulla careggiata giusta questo treno che insomma sta sbagliando strada ha sbagliato strada io sono abbastanza fiducioso ottimista perché una piazza come Barletta non merita di soffrire così come stiamo soffrendo tutti quanti allo stesso tempo chiedo di 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 starci un attimino tutti quanti un po' più vicini perché da questa situazione possiamo uscire solo e se siamo tutti tutti compatti tutti uniti è un progetto direttore di un anno e mezzo possiamo dire quello che avete intrapreso col direttore Pitino col nuovo allenatore quindi chiaramente salvezza aggiustare questo campionato disgraziato e poi provare a programmare qualcosa di importante nella prossima stagione sì sì era ovvio ed era scontato che il percorso da intraprendere a questo punto della stagione era un percorso teso appunto a salvare nel migliore dei modi possibili questa stagione e programmare già da questa stagione la prossima perché a prescindere da quello che sarà poi perché sicuramente state ascoltando anche voi i movimenti societari eccetera eccetera a prescindere da quella che sarà la nuova compaggione societaria lasciare un'eredità che possa ben far figurare il barletta anche nel prossimo campionato sarà una vera e propria rivoluzione di mercato perché abbiamo visto molti movimenti anche in uscita ci sono stati una serie di movimenti in uscita perché quando io ho ereditato appunto anche la parte del mercato c'era una rosa di 32 giocatori 32 calciatori che capite bene quanto è problematico gestire quindi l'obiettivo prioritario era quello di sfoltire la rosa in questo momento abbiamo una rosa di 24 composta di 24 calciatori e sicuramente ci saranno degli innesti e delle relative uscite quindi l'obiettivo è quello di confermare nella rosa 24-25 calciatori tra entrate e uscite però il grosso sulle uscite penso sia stato fatto Bocca al lupo con la speranza che si possa dare soddisfazione a quel pubblico che ha firmato un record dallo scorso anno praticamente anche quest'anno oltre 3.000 abbonati una cornice che ha fatto parlare probabilmente tutta Italia della barletta calcistica quindi come dicevo giustamente il direttore merita sicuramente palcoscenici importanti in bocca al lupo perché in questo momento avete bisogno sicuramente di un grande incoraggiamento ne abbiamo bisogno tanto grazie vive il lupo Claudio a te grazie c'è Franco Massari perché a proposito di salvare le navi bisogna salvare salvare anche quella del bitonto bitonto che abbiamo abbiamo commentato che cosa ci porta il bitonto un po' d'olio ah no tutti volevano l'olio franco c'è da salvare anche questa nave c'è da portarla in porto quel porto si chiama salvezza c'è da salvare questa squadra perché comunque dall'inizio questi giovani imprenditori sapevano cosa andavano incontro la verità la squadra gioca bene molto bene il problema è il gol infatti incassiamo poco però non riusciamo a fare tanti gol e per vincere le gare bisogna fare i gol quindi era un attaccante sì e ci vuole no ma più che l'attaccante ci vuole quella fortuna che il pallone invece di toccare il palo ci vada dentro c'è bisogno di chi lo butta dentro c'è c'è bisogno di chi butta dentro la palla speriamo di riuscire a indovinarlo in questa fase di mercato la società sta facendo l'impossibile per poter dare gioia e confermare la categoria certo siamo nelle ultime posizioni come squadra però come società come solidarietà come accoglienza qui ci sono testimonianze siamo tra i primi posti e noi puntiamo molto sull'amicizia su questo campionato di serie D da trattenere proprio a denti stretti perché Bitonto merita questa categoria sta mancando anche lo stadio tanto intanto penso che in settimana chiederemo una deroga almeno per gli abbonati sul campo alternativo che abbiamo a Bitonto perché l'apporto del tifoso è importante per tutti quanti voi per tutti quanti noi e quindi speriamo che ci riusciamo mi permettete di donare certo il nostro editore è invitato qui può venire qui non so metterei in camera da letto no grazie viene 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 l'editore per le telecamere è meglio che ci mettiamo qui tanto abbiamo spazio grazie grazie del pensiero grazie ho il dovere di ringanarle questo gentilissimo anche negli anni scorsi ha ricevuto grazie da tutte le squadre forse le mancava quella del Bitonto metteremo anche questa quindi nella nostra disponibilità a questi due fantastici ragazzi grazie e poi se mi permette io voglio andare alla signora Carbonara come no lei è padrone qui tanto ha fatto salto a fare quello che vuole a me una bottiglia d'olio niente perché l'olio di Bitonto è salta roba grazie non c'è olio Claudia anche il direttore di Toro può il galli ha detto vale più di uno di uno un chilo di olio ci va anche per forza Bitonto e vogliamo la vostra salvezza mi raccomando forza Bitonto grazie grazie in bocca al lupo grazie grazie in bocca al lupo anche al Bitonto anche perché dobbiamo ricordare le splendide ragazze del calcio a 5 di Bitonto che hanno vinto di tutto quest'anno Scudetto Supercoppa Coppa Italia e hanno fatto davvero molto bene anche in Champions League e allora Dario Loporchio ti abbiamo tenuto alla fine di questa nostra trasmissione proprio perché volevamo mettere insieme tutti gli ingredienti tutti gli elementi delle varie leghe e proprio per capire adesso la posizione dei calciatori in base a tutto quello che sta succedendo dunque la regola degli under le nuove norme che riguardano anche i contratti dei calciatori Allora di nuovo grazie per l'invito è un piacere stare nella famiglia del gruppo distante perché tiene unita la Puglia calcistica sempre è stata una svolta epocale rispetto alla riforma dello sport sicuramente per i calciatori in positivo molto in positivo perché faccio l'esempio sulla mia persona ho giocato più di 15 anni nei direttanti e non non mi ritrovo un contributo oggi con la riforma dello sport i calciatori riusciranno ad ottenere dei contributi che potranno essere utilizzati ai fini pensionistici attualmente non con il canale dei professionisti però noi in futuro ci siamo prefissi di poter richiedere la possibilità di poter congiungere diciamo questa contribuzione pensare questo qualche anno fa era una missione impossibile oggi invece diciamo capiamo anche il momento da parte delle società perché chiaramente viene stravolto anche a livello amministrativo e quindi con dei costi di gestione da parte delle società però io dico sempre perché io faccio sindacato anche nella vita non solo a livello calcistico ma anche nel nel mio lavoro degli autoferro tramvieri bisogna oggi tutelare il lavoro tutelare il lavoro è tutelare il lavoratore che in questo caso è il calciatore e le società che in questo caso sono la parte la parte datoriale quindi bisogna trovare un connubio affinché questa riforma che chiaramente subirà tante modifiche io sono convinto porterà deve portare dei benefici chiaramente ci sono da fare dei passaggi anche a livello governativo dove si devono pensare più risorse per il mondo direttantistico la stessa federazione insomma una ripartizione diversa delle quote però pensiamola ecco come diceva il mio amico Santo Ruvo che nelle prime battute della riforma ci siamo sentiti proprio perché insomma le modifiche sono ancora in addivenire ce ne saranno ancora tante bisogna diciamo prenderla positivamente svincolo svincolo diciamo lo svincolo per noi è stato un cavallo di battaglia chiaramente anche questo un trauma per le società anche questo deve essere vissuto in maniera diversa anche qui serve un contributo da parte delle federazioni affinché le società non subiscono il contraccolbo di perdere calciatori diciamo in maniera gratuita dopo che li hanno formati chiaramente il nostro obiettivo da sempre era quello che i giovani potessero diciamo giocare senza una regola senza un'obbligatorietà oggi ci stiamo riuscendo e chiaramente società vedi ho visto con piacere l'amico Leonardo Di Ponzio e il Francavilla che lavorano bene su un vivaio su una filiera che porta poi giocatori addirittura della stessa città ad approdare addirittura i professionisti questo dovrebbe essere anche se è difficile il futuro del calcio direttantistico e professionistico e noi insomma per il 2024 ci auguriamo che possa succedere finalmente buone nuove anche per i calciatori i calciatori di una certa età e soprattutto le nuove leve che si affacciano proprio in questo mondo straordinario tengo a sottolineare che noi abbiamo invitato tutte le società sia pugliesi che lucane dalla serie A fino alla serie D ovviamente non tutte sono potute venire per problemi c'è chi non ha neanche risposto al nostro invito c'è chi invece non è potuto venire noi siamo contenti così perché abbiamo voluto accontentare tutti ma soprattutto è stato un onore per noi avere insieme tutte queste società perché sono il nostro pane quotidiano peccato per chi non è venuto e comunque probabilmente ci stanno seguendo in tv e allora io ne approfitto per riabbracciare il nostro Salvatore Petrarolo perché ci sono due riconoscimenti uno in questo momento un riconoscimento un riconoscimento un riconoscimento un riconoscimento lo faccio io personalmente a tutti gli ospiti e poi consentitemi non l'ho fatto all'inizio lo faccio a conclusione di questo lungo appuntamento io devo ringraziare il presidente del gruppo di l'Italia Distante perché ripone fiducia sul nostro lavoro e questo ovviamente a noi non fa che piacere perché ci consente di portarvi in casa quel prodotto di cui parlava in sede di presentazione grazie ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato l'ha detto Claudia c'è stato anche chi non ha risposto al nostro invito chi ha risposto e non ha potuto esserci ma chi non ha neanche risposto io dico sempre non sapete che cosa vi siete persi perché vi siete persi una bella una bella serata di convivialità e di calcio parlato noi io do soltanto un pensiero al nome ovviamente di tutto il gruppo editoriale delle nostre reti all'avvocato Paolo Bedin direttore generale della Lega Pro faccio un po' gli onori di casa anche se non mi compete per ovviamente il lavoro svolto per la nostra stima nei suoi confronti nei confronti di tutta la Lega Pro e per aver accettato il nostro invito di essere stato qui con noi perché insomma ci ha fatto enormemente enormemente piacere non ho altro da dire che augurare un sereno e un proficuo 2024 Claudia a te per la chiusura grazie ancora salvatore resta con noi ci mancherà vorrei magari chiudere dando appuntamento all'anno prossimo sempre se Dio vuole perché quest'anno diciamo qui abbiamo oggi cinque persone non posso chiamarla allora c'è il Vito che quando sono entrato nel calcio io per il 1984 ero il segretario giusto il segretario del comitato regionale poi mi sono trovato di fronte come calciatore Dario abbiamo fatto quelle partite ho perso mi hai fatto piangere non dimenticare mi hai fatto piangere ma purtroppo il calcio è questo Franco D'Amico è un'altra persona squisita che anche lì parecchie occasioni derby Francavilla Fasano chi più ne ha più ne mette però sempre nella correttezza più totale possibile poi chi trovo trovo anche un giocatore qui di fronte a me che giocava con me che è Leo Di Punzio giusto Leo? quindi nel lontano poi i geretti nel in serie C alla campagna putolana te Antonio Di Vella che saluto sono passati tanti anni e poi c'è Luigi Barbiero Luigi da quando viste il primo campionato che prima non c'era cioè promozione eccellenza interregionale era promozione serie D e tu eri già in serie D e quindi voglio dire questi cinque amici spero di rivederli ancora se Dio vuole sempre arrivederci l'anno prossimo di nuovo a questo gran gala del calcio ringrazio di nuovo Paolo e lascerei la chiusura a Paolo a Paolo? sì io lascerei la chiusura a Paolo per augurare quello che vuole lui gli augura a tutti non so lascerei la chiusura a Paolo se vuoi mi permettere come conduttore come no grazie Paolo ancora della tua presenza qui questa sera allora chiudo lo faccio per rispetto chiedo scusa agli altri ma per rispetto che si è fatto più chilometro di tutti quanti grazie chiudo con un'aneddoto perché prima hai mandato al presidente Marani una richiesta anche accalorata di venire incontro all'emittenza locale allora io l'aneddoto è che io quest'anno ho riunito il gruppo di lavoro della Lega che si occupa dei diritti audiovisivi che è un po' l'area legale un po' l'area comunicazione e un po' la segreteria e ho detto dobbiamo clonare Antenna Sud nel senso che abbiamo fatto il primo bando il primo invito a offrire sui diritti nazionali nella storia della Lega Pro vinto poi da Sky e il primo internazionale con la piattaforma FIFA siamo l'unica Lega Europea a essere sulla piattaforma FIFA Plus ma a livello di emittenza locale ci siamo tenuti nel bando come diceva il presidente il 10% delle aree complessive ma mi sono reso conto arrivando in Lega da qualche mese che solamente tre emittenti in Italia per sole 14 squadre su 60 avevano acquisito i diritti quindi quando sono andato a vedere i numeri mi sono accorto che Antenna Sud staccava per distacco tutti e ho detto dobbiamo arrivare ad avere tante Antenne Sud ci tengo a dirlo qui davanti a te abbiamo fatto tre bandi un primo un secondo un terzo a cui tu hai partecipato so che all'inizio eri anche un po' preoccupato che avevo un po' cambiato la strategia commerciale sui diritti locali il risultato è stato straordinario oggi abbiamo 30 squadre rappresentate la 14 siamo in 14 regioni sulle 18 e abbiamo 92 partite cedute ovviamente Antenna Sud mantiene un primato assoluto sia in termini di squadre sia in termini di regioni sia in termini di partite però è stata da noi usata e lo dico con grande piacere Mino come esempio che poi altri emittenti hanno seguito dopodiché ringrazio tutti è stata una bellissima serata qui viene fatto viene fatto come dire un lavoro straordinario in termini tecnici questa è una televisione locale ma può essere preparata tranquillamente a una televisione nazionale per quella che è la nostra esperienza calzo pugliese l'abbiamo detto tutti ma veramente è oggettivamente uno dei fenomeni e dei movimenti calcistici più importanti dal dilettantismo al professionismo e quindi rappresenta per noi che facciamo questo lavoro un serbatoio straordinario di passione di pubblico di professionalità di club e quindi la Lega è onorata di essere qui e doveva esserlo assolutamente questa sera grazie per l'invito grazie a voi Claudia prima di salutare io faccio come sempre in chiusura consentimi ringrazio tutti i colleghi giornalisti e tecnici che hanno lavorato sui campi e in redazione io lo dico a ogni fine puntata oggi soltanto sui campi anzi oggi soltanto in redazione perciò ringrazio Flavio Fabrizio Domenico Davide Cristina che è a casa e che avrebbe dovuto essere qui la pronta guarigione Cristina Cristina Cavallo Vito Di Noi Dennis Magri Pierandrea Fanigliulo Antonio Gargano Claudio siamo tantissimi Antonio Specchio anche lui avrebbe dovuto esserci ma insomma i mali di stagione mettono mettono in difficoltà un po' tutti grazie ovviamente ai tecnici a chi è stato in regia a chi si è occupato Cristina Cesario Alessandro Zanzi Alessandro Zanzi Antonio Belagico Antonio Belagico non li voglio dimenticare chi è stato in regia chi è stato alla grafica chi è stato al coordinamento dei collegamenti all'audio adesso a te per veramente l'augurio di un 2024 e a chiudere questo appuntamento facciamo anche un compliment alla regia oggi perché ho visto che quando parlavano alle squadre c'erano le immagini che facevano riferimento a loro quindi complimenti ripeto ancora una volta ai tecnici in regia che c'era questa sera e come sempre un buon calupo a tutti quanti e auguri a tutti grazie grazie a tutti voi grazie quindi a tutti i presenti a quelli che ci hanno guardati sono stati anche tanti i nostri telespettatori allora l'appuntamento è al prossimo anno ma noi continueremo con la programmazione di Antenna Sud ci sarà un derby lo possiamo dire Salvatore in anteprima lo diciamo il 6 gennaio 16 e 15 Foggia Taranto in diretta e in esclusiva in digitale terrestre su Antenna Sud ma insomma il 6 gennaio mettetevi comodi che cominciamo alle 14 e finiamo alle 23 30 un saluto a Vittorio Caligano possiamo fare assolutamente anzi Vittorio Caligano salutano è uno dei più navigati nel calcio chiude lui chiudevi Vittorio Caligano venga venga direttore ci mettiamo qui stiamo facendo tutto siamo tutto live devo darle del tu televisione sia sempre del lei innanzitutto devo portare i saluti di Massimo che per impegni di lavoro non è potuto venire quindi saluti di Massimo Giove a tutti come società poi Mino nei tuoi confronti tu sai quanto noi siamo sensibili alla tua partecipazione Antenna Sud è il nostro media partner e quindi siamo ancora più contenti e poi mi fa piacere di salutare tanti amici tanti giocatori che hanno giocato con me e Capuano che è il nostro totem ho detto io dall'anno scorso quando è arrivato Capuano era il nostro totem si è consolidato adesso è diventato addirittura l'uomo immagine e quindi i risultati e tutto quello che sta portando assieme a lui i complimenti anche a Massimo perché con quello che c'è successo con Carlo ci siamo sentiti all'inizio del campionato con quello che c'è successo dalla prima partita abbiamo fatto tre partite fuori casa con il Cerignola abbiamo giocato a Francavilla a porte chiuse quindi abbiamo avuto una perdita secca notevolissima parlando di sostenibilità si è venuta a mancare tanto e sa appunto Bedin cosa abbiamo sofferto però è un campionato bellissimo vincente siamo contentissimi della partecipazione dei nostri tifosi che sono tornati allo stadio che ci hanno incitato merito anche di Ezio che veramente ha fatto fare il sold out in un paio di partite ci auguriamo che questo campionato continui per il Taranto in questo modo e che tutti possiamo continuare a divertirci e poter andare felici allo stadio grazie a tutti alla vostra presenza e auguri a tutti grazie 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 siamo in chiusura eh sì io pensavo chiudesse chiudesse vittorio Galigani e allora possiamo dare un buon 2024 augurarlo a tutti i nostri telespettatori alle persone che seguono il calcio e a quelle che lo faranno grazie al nostro gruppo editoriale buon 2024 arrivederci augurati a tutti buon rito